o grazie stefano di essere qui no grazie a te che mi hai invitato un mezzo miracolo che ci incrociamo tu non lo sai ma questa notte non ho dormito a dire non perché eri emozionato prima del tuo incontro anche ma perché ho tossito tutta la notte è una coda di una specie di bronchite e se non fosse stato per te che c'è di tu oggi non sa non avremmo fatto la puntata però siccome sei davvero difficile da da bloccare è che è una vita piuttosto eclettica e movimentata loro detto no beh stefano lo becco oggi non lo becco più e siccome pochi content creator mi hanno emozionato come te nell'ultimo periodo che costo lavoro non so perché noi non siamo partiti per intervistare i content creator youtuber poi siamo finiti insomma alla fine c'è questo è ma perché ormai sono persone esperte cioè sono quelli più sul pezzo si conoscono meglio il mondo siamo partiti con i monaci e adesso ovviamente youtuber no scherzo che poi youtuber non vi piace di solito come ma chiamami un po come vuoi anche monaco laico va bene per certi versi quindi io non lo sapevo prima che iniziassimo lo dobbiamo dire a chi ci segue e troppo fa troppo ridere perché io non ti conoscevo lo ammetto è mica una colpa però cazzo una volta che poi conosci un creator dici ma come cazzo è che non lo conoscevo prima perché la qualità della tua roba è veramente alta c'è tanta tanta roba in generale su tutti i fronti vabbè netto di questo io cercavo perché ultimamente mi è presa la pazzia di camperizzare la jeep anche io la voglio fare anche io quella roba la mamma mia solo che come detto tu sono troppo in giro quindi non sto mai fermo in un posto dove parcheggiarla poi sta jeep o il van è un delirio un delirio ho comprato frigo comprato la tenda da mettere sopra dell'auto home che è un'azienda italiana che saluto fantastica e poi c'era da comprare la batteria con cui alimentare il frigo e tutti i device che ti porti in giro computer eccetera e la recensione migliore della batteria migliore era la tua quindi che che si chiama arrivo flow una roba del genere sì qualcosa del genere che ha una batteria fighissima che tu connetti alla sì molto bella io ce l'ho lì pronta per l'estate non vedo l'ora di provarla cioè di provarla in viaggio perché l'ho provata a casa ma esatto sì perché poi col covid anche tu sarai stato fermo per un bel po' meno di quel che sembra perché stando io dall'altra parte in russia dove abita il covid l'hanno approcciato in maniera un po più darwiniana chiamiamola così c'è stata molto più libertà il lockdown l'ho vissuto un po poco ecco parte all'inizio ovviamente e sta batteria insomma io vedo sta recensione dico beh mi sembra un po' questo ragazzo mi sembra che parli un po' troppo bene per essere uno che fa solo le recensioni delle cose poi ho detto magari un influencer della vita tipo van life eccetera invece poi guardo e in parte sì in parte c'è dentro nella tua narrazione c'è tanta anche vita wilde tant'è che il video tuo che ha avuto più successo all'inizio si vede che parlo di quello in cui fai torino caponord dormi con una tendina della decathlon dove dove capita praticamente quindi c'è un po' no assolutamente io sono uno zingaro di vocazione quindi quando posso fare quelle cose lì adesso un po' meno perché poi insomma poi strutturando anche un lavoro no quello al tempo era proprio la vacanza però lavorando anche con altre persone magari quell'esperienza così wild avviene più raramente però mi è capitato cioè non più tardi di un anno fa ho vissuto una settimana con i nomadi nella tundra nel nord degli urali in siberia cioè non è ancora siberia però diciamo nord degli urali dove ci sono i nomadi nenet allevatori di renne mezzo alle loro tende a meno 20 spaziali una cosa bellissima era una vacanza tua per viaggio era per fare un reportage tecnicamente la possiamo classificare come vacanza nel senso che nella tua vita nessuno mi pagò per andare là no però andrei andare a fare questa cosa poi nel momento in cui c'era da pubblicare il video compare uno sponsor che insomma poi copri qualche costo diciamo però io sarei andato anche senza sponsor ecco come la maggior parte delle cose che faccio io non è una dissolvenza strana quella tra la vita il lavoro nel caso di chi fa il tuo nel mio caso le due cose non sono in alcun modo separate cioè il mio la mia vita e il mio lavoro il mio lavoro e la mia vita ecco tu faresti gli stessi viaggi che fai per lavoro li fai monetizzandoli in qualche modo chiaramente ci deve essere alla base una sorta di business plan in qualche modo per poter renderlo sostenibile no perché diversamente non c'è viaggiare costa se non a se non fosse il mio lavoro non potrei fare tutti i viaggi che ho fatto fino ad oggi me lo faccio perché se il mio lavoro fosse altro comunque così come ho fatto per i primi cinque anni in cui facevo questo sicuramente appena avessi avuto un una piccola quantità di denaro investibile in viaggi li avrei ne avrei fatto infatti il più possibile perché questo è quello che ho fatto fino al 2016 quando poi ho passato il rubicone abbandonando il mio vecchio lavoro e facendo poi questo sì noi oltre a fare questo podcast lo diciamo spesso questo podcast è offerto da il nostro sito il mio sito di formazione finanziaria che si chiama money surfers e negli anni scorsi quando ancora si potevano fare gli eventi grossi indoor formativi abbiamo occupato il palazzo del cinema di venezia per tre giorni facendo un corso che si chiamava remake your life dove spiegavamo una roba che si chiama life design che si insegna anche alla stanford university che è un modo dai un po meno retorico di tutti i motivatori di muscolari che vedi in giro per provare a riscrivere il film della tua vita no e l'abbiamo fatto è stata una figata tipo del carneghi quel verso lì no esatto ovviamente poi capito nella tua nella tua canale e becco esattamente un remake your life cioè uno che ha rifatto la sua vita di brutto perché tu eri giusto dentista confermo e adesso sei documentarista e poi insomma la tua vita ha preso pieghe anche un romanzo esatto esatto molto interessanti che poi racconteremo perché io non lo sapevo nasce tutto da una cazzo di batteria per la gip incredibile e peraltro questa è una cosa incredibile che secondo me ci può portare sul piatto un concetto che a cui sono molto caro no come nulla accada a caso io venni contattato da questa azienda per fare questa recensione di questo di questa batteria che con cui tu mi hai conosciuto e accettai semplicemente perché a quel tipo di oggetto lì mi tornava utile per i miei progetti di viaggio e comunque loro nell'accordo lì oltre al compenso mettevano sul piatto con la roba io me la tenevo che costa 700 euro la buttala via la cosa più costosa di tutta la mia quindi essenzialmente io ho fatto quel video lì per ho fatto ovviamente fatto il mio lavoro massimo a come dire da dando il meglio come come mia natura fare però con onestamente una volta pubblicato quel video mi dico vabbè abbiamo fatto sta cosa sembra un po' una mezza marchetta cioè i contenuti che a me piace davvero fare sono altri l'ho fatto perché mi conveniva diciamo perché vabbè mi porta a casa sta batteria portiamo a casa un mezzo stipendio va bene ok però sai no quei video quando li pubblichi dici boh faccia un po quello che devono fare sto video non è che ci tengo se fa mille o un milione di visualizzazioni no e però se non fosse per quello non sarei qua si è incredibile ma se la magia dell'algoritmo cioè la magia della vita la questione della dei contenuti allora cosa è successo che poi guardando i tuoi video e passando da devo dire che una cosa che mi ha fatto riflettere questo non importa di che cosa parli ma è importante come ne parli perché quando io ho visto la tua recensione della batteria cioè ho capito adesso non voglio fare il figo non è che sono un talent scout però un minimo dai c'ho 46 anni ormai vivo sul digitale da due decenni dimostri meno di me quindi tutto trucco c'ho su un cerone così tipo berlusconi e no però ho detto cazzo questo racconta bene parla bene non può essere solo uno che si è alzato la mattina ha fatto la recensione della batteria portatile e infatti poi ho visto tutto il resto e ho detto wow e questa cosa mi ha colpito mi ha colpito tanto anche un commento che ho letto oggi sotto il tuo video su bellissimo è uno dei tuoi primi dove vai da torino a capo nord che ho citato prima che c'è un ragazzo sotto che dice anche io ho fatto un viaggio come il tuo fatto un video ho fatto gli stessi luoghi ho frequentato gli stessi posti ma non è venuto bello come il tuo cioè lì qualcuno ogni tanto mi scrive una cosa mi fa sempre ridere però me lo dicono me lo scrivono spesso quello ti ascolterei anche a leggere l'elenco telefonico eh sì caspita quella è proprio un dono ci sei tu è un dono ci sono anche altri ragazzi in italia che veramente sono dei fenomeni però quella roba lì oggi per comunicare così ehm ci vogliono una serie di doti innanzitutto una dote tecnica perché comunque eh i video te li monti ancora tu immagino ah certo e no non è da poco quindi bisogna sapere raccontare quindi saper scrivere bene perché immagino che tu sceneggi cioè nel senso che poi a seconda dei vari contenuti però la maggior parte dei contenuti hai una sceneggiatura no si scrive mentre monti ho una a seconda di quello che devo fare eh così per non perdermi dentro me stesso cosa che è facilissima più delle volte tendo a fare una scaletta magari no del tipo devo parlare di questo di questo di questo di questo eh nel caso di quella recensione lì allora quali sono le caratteristiche che non non posso non menzionare di questa cosa un due tre quattro avevo tipo un foglietto magari più delle volte o una nota sul cellulare e poi il resto è dialettica spontanea cioè io non leggo nulla quando solo le voci fuori campo quelle le scrivo e le leggo perché così per stare conciso però una caratteristica dei miei video che a volte è un bene a volte un male a seconda di chi ascolta è che io parlo molto a braccio questo comunica molta spontaneità delle volte magari lo stesso concetto lo potreste dire in cinque minuti di meno ecco no però via 30 35 però ecco allora una cosa mi incuriosisce visto che oggi raccontare bene una storia fa la differenza tra un progetto che ha visibilità un progetto che non ha visibilità tu puoi percorrere lo stesso percorso che scusate la ripetizione che fai da torino a capo nord lo faccio io lo fai lui lo fai tu il tuo video lo vede un milione di persone il mio video lo vedono duemila persone qual è se hai capito adesso dopo otto anni no che è un canale youtube più o meno otto anni nove sì diciamo che ce l'ho seriamente saranno in realtà quattro anni perché cinque to i primi video io li ho caricati in due minuti però ne capiscavo due all'anno magari no ok ebbero molto successo specie torino pechino poi ebbe forse ancora oggi il mio video più visto però al tempo facevo il dentista non c'era il tempo di gestire un canale youtube per come noi intendiamo questa attività no sì e ho iniziato a farlo seriamente da quando ho mollato il mio vecchio lavoro e quindi mi sono detto il mio canale youtube dovrà essere parte integrante del mio lavoro per cui mi ci dedico seriamente nacque la serie moscow diaries nacque una serie di iniziative alcune poi sono un po tramontate perché non davano grandi frutti altre invece hanno avuto moltissimo successo specie ultimamente e quindi insomma avere un canale youtube vuol dire avere una produzione costante magari non proprio sai metodica ogni lunedì eccetera però via insomma che la gente non stia sei mesi senza vederti no e invece prima succedeva questo quindi il primo video tecnicamente l'ho pubblicato nel 2011 però il canale posso dire che ce l'ho dal 2017 non sono pochi anni considera che nel 2017 c'erano mi ricordo 8.000 iscritti a quel canale oggi sono 180.000 quindi 183.000 a oggi arrotondiamo per difetto ti sarai un po reso conto di quelli che possono essere gli ingredienti che deve avere un video per avere dei numeri pazzeschi ci sono dei video con mezzo milione di views anche di più beh ogni ogni creator ha la sua regola perché poi ogni creator viene seguito per altre cose e questo per per cose diverse scusami questo è in realtà un argomento che mi crea non pochi dilemmi nell'ultimo periodo la le chiavi per avere tante visualizzazioni sono purtroppo uno una certa componente di click baiting chiamiamolo così cioè attirare l'attenzione con un argomento che o è particolarmente in tendenza adesso o in un certo periodo o con una parola chiave o con una copertina che ti dica no io voglio assolutamente sapere di che cosa sta parlando e e quelle uno poi successivamente quella è la prima parte che comunque non è così poco importante no perché devi essere sul pezzo di quelli che sono i trend del mondo a seconda di quello di cui ti occupi naturalmente no però faccio un esempio io non ho mai voluto parlare di pandemia nel mio canale perché è un argomento che mi è sempre sembrato troppo troppo pazzo per come veniva gestito dalle persone allo stato mentale delle persone durante non era possibile parlarne con calma sostanzialmente no tuttavia in tantissimi mi chiedevano ma come la stanno gestendo in russia fanno le stesse cose che facciano fanno da noi e le mascherine al chiuso dice vabbè accendo la telecamera racconto semplicemente quello che vedo no ho fatto persino un'introduzione per mettermi il casco del tipo ragazzi non datemi del novax non datemi del complottare o quello che vi racconto solo quello che vedo se qua in russia la maggior parte sono contrari ai vaccini e non si è vaccinato praticamente nessuno e tante altre cose che ho raccontato è semplicemente raccontato quello che quello che si vedeva su le restrizioni che ci sono state i lockdown eccetera eccetera noi l'anno scorso adesso siamo ad aprile l'anno scorso a novembre no c'è l'anno scorso 2020 tra novembre e tra novembre 2020 e marzo aprile 2021 noi abbiamo avuto una brutta botta no c'è così noi tu dici italiani con zone rosse arancioni un continuo tiramollano così in russia facevano i concerti cui chi mi seguiva su instagram era un pelino scioccato no di questa cosa per cui tanti mi hanno chiesto fatto un po lunga di nuovo però racconto questa racconto questa storia qua ma sai un video che proprio sputato in mezz'ora prima di partire per l'aeroporto perché stavo andando in india montato su un pullman in india sacrificio zero penso che ti potrebbero definire il video di maggior successo del mio canale di sempre perché argomento giusto al momento giusto e anche peculiarità che solo tu lo potevi raccontare esatto quindi c'è questa cosa qua c'è solo tu per noi italiani così bene è quello sì no e ci sono c'è il tema che allora uno c'è un po di un po di clickbait in due il tema deve essere interessante e poi tre deve avercelo un contenuto dentro no devi questo è un caso specifico però tu fai il quasi sempre il vlogger di viaggi e il vlogger di viaggi porca tre ce n'è un botto ce ne sono tanti noi abbiamo avuto ospiti anche i buon balini però non tutti tutti non tutti ottengono i risultati che ottenete voi sì sì ma peraltro per inciso c'è nel nel mio caso di nuovo se vogliamo parlare di video di successo io adoro fare video di viaggio ritengo che siano i miei video migliori in assoluto però per qualche motivo non sono quelli che vanno meglio nel mio canale quelli che vanno meglio sono i video dove io mi siedo davanti a una poltrona e parli della russia e parlo di argomenti storici di divulgazione culturale di vario tipo ovviamente il tema russia è un tema che è molto forte non solo adesso per ovvi motivi ma anche prima perché è un universo che per noi è sempre stato molto sconosciuto per cui parlare di quello mi porta a un sacco di pubblico scusami se noi abbiamo ti faccio un parallelo che ti fa capire perfettamente la natura anche del mio dilemma se vogliamo perché poi da creator te le fai queste domande no cioè immagino sto video qua di come è andata la pandemia in russia sputato senza sforzo proprio uno di quei video mi sono detto speriamo che lo vediamo in pochi se no mi insultano e basta no però l'ho fatto perché tanti me lo chiedevano fu una forma di servizio verso la mia community super successo eccetera due settimane dopo che torno all'india eccetera pubblico un video di viaggio sulla kamchatka la regione che ho visto ieri su national geographic il documentario della kamchatka sul che tutti conosciamo per via del risico eccetera un posto pazzesco no cioè delle immagini allucinanti col drone su sti vulcani eccetera video di mezz'ora mio solito format quindi con la voce fuoricampo c'è il mio format top quello che mi ha reso stefano tiozzo sostanzialmente e niente quel video l'avra qualcosa come 500 mila visualizzazioni quello della pandemia di quello del della kamchatka un ordinario numero di visualizzazioni per la mia fan base quindi che so 60 70 mila visualizzazioni con la differenza che l'altro l'ho fatto in due minuti e quello lì ci ho messo due settimane di viaggio un viaggio in pazzesco mi sono fatto un culo a capanna eccetera per montarlo anche lì una settimana di lavoro tra tutto quanto per fare tutte le cose come mi piacevano essere fatte e capisci che c'è una grossa sproporzione sarebbe interessante capire quelli che ti seguono da quale video poi ti hanno seguito perché ad esempio io da quello della batteria hai capito e magari quell'altro che ti ha beccato per il covid e poi dopo scoprono che invece c'è un mondo dietro io alla fine mi sono giunto perché poi anche con instagram ho un rapporto molto colloquiale diretto con la mia fan base feci presente questa roba no tipo ragazzi cioè io se volessi fare veramente lo youtuber dovrei smettere di viaggiare se dovessi se dovessi fare se il mio canale youtube fosse un'azienda no e io fossi il manager della mia azienda dovrei andare dall'amministratore delegato della mia azienda e gli guardi la nostra azienda in questo settore qua tante uscite poche entrate no in questo settore qua poche uscite tante entrate figa andiamo verticale su quello no e quindi questa cosa però la soluzione la risposta che mi sono dato che in realtà mi hanno dato anche le persone che mi seguono da tanto tempo che quindi mi hanno conosciuto e mi hanno stimato per i viaggi e che essenzialmente sì ok quel contenuto di là fanno tante views ma sono views sostanzialmente poco calde sono views di gente che è curiosa ma poi di te non gliene frega niente sostanzialmente il la vera fan base è quella che guarda i contenuti che a me piacciono di più perché sono persone che si sono legate emotivamente anche se vogliamo spiritualmente in qualche modo a ciò che io faccio a come lo faccio per cui quella gente lì guarda poi anche con grande piacere stupita peraltro wow stefano è in grado anche di fare questa cosa molto interessante eccetera no anche la storia della batteria ma sì tanto mi piace come racconti le cose mi piace perché sei tu quindi anche se mi racconti di una cosa che non comprerò mai perché non mi interessa avere una batteria da 8000 megatoni ti seguo lo stesso al contrario succede che chi magari mi scopre per la storia della guerra in ucraina la storia della pandemia divulgazione sulla storia dell'unione sovietica quello che è e c'è però sto ragazzo ha in gamba fai vedere un pochino e scopri i viaggi perché anch'io ho questo modo di fare un po eclettico no cioè parlo di faccio il formatura finanziario poi vengo qua parlo di tutt'altro e a volte non hai un po la sindrome del come si dice quella del dell'impostore esatto cioè di quelle persone che riescono a fare mediamente bene ma non eccellono adesso tu eccelli però io no no ma capisco perfettamente quello che dici cazzo o faccio il dentista ma tutto sommato avrei potuto fare il dentista tutta la vita faccio il documentarista tutto sommato comunque funziona vado e la gente mi conosce parlo di dai costume e la gente mi segue faccio il recensore di tecnologia o la gente mi segue pocoli in quel caso specifico solo tu mi hai seguito in quello no beccati no è la tua italiana era l'unica più vista anche lì eri forse uno dei pochi però ogni tanto non dici perché fra i miei corsisti tante volte la gente mi dice io so fare tante cose mi piacciono tante cose non so mai quale strada a scegliere nel tuo caso il punto è capire che cosa sei bravo a fare la domanda è tu sei bravo nel mio caso c'è tu io chiedo a me stesso non si faccia una domanda se lì a una risposta tu stefano sei bravo a fare dentista a fare documentarista a fare il divulgatore di costume società di culto cultura e storia o geopolitica russa quello che ho recensione sembra così sei bravo a fare una di queste cose all'inizio ti illudi di sì nel mio caso personalmente si sono bravo a fare questo e voglio fare mi riesce bene fare quest'altro eccetera no io non sono bravo a fare queste singole cose io sono bravo a entrare in empatia con le persone quella la mia è il mio reale talento il mio reale dono la capacità di mentre parlo di toccare inconsapevolente il cuore delle persone che mi ascoltano di conseguenza quale che sia il modo in cui io esprimo questa cosa in realtà non ha importanza da fuori viene percepito come tale per cui sostanzialmente io periodicamente quando facevo il dentista e iniziavo a fare documentari di viaggio i miei colleghi dicevano stefano ma fa il dentista va che è meglio no fatti furbo classico fare sta stronzata qua di fare video di viaggio eccetera boom diventi stefano tiozzo adesso lo sto vivendo in realtà da quando da due anni più o meno ho iniziato a occuparmi in maniera più diretta di questioni un po più intellettuali un po più storica anche la divulgazione di analisi di politiche internazionali di quello che sta accadendo per esempio adesso su russia e ucrania sono video che mi mi dove mi si riconosce un grandissimo suggesto di pubblico diciamo molti mi dicono stefano ma fai video di viaggio va anche meglio quindi ti piace si sposta sempre più in là la prima perché semplicemente le persone ragionano a compartimenti stagni per cui tu vedi una persona la conosci per una cosa per te lui è in quella casella e non potrà mai uscire da quella casella no quindi se un domani io mi venisse in mente di fare il divulgatore finanziario e ritenessi che ci fosse che ci fosse un motivo reale per fare quella roba là una cosa che a me piace per davvero che io ritengo di avere qualcosa da dire agli altri mi metterei a parlare ovviamente lo farei come ho sempre fatto tutto cioè con documentandoli facendo le cose per bene da secchione quale sono perché ho fatto liceo classico massimo dei voti università massimo dei voti laureato primo gruppo dopo cinque anni cioè ok io ho questa natura qua ma non è quello in cui sono bravi non sono bravo a studiare o fare tecnicamente bene una cosa quella diventa semplicemente uno strumento perché poi io possa farla quello in cui sono bravo ed ero bravo anche come dentista entrare in empatia con i miei pazienti i miei pazienti è importante gli banco tra virgolette perché quando venivano da me stavano bene con me ma poi uno che gli faccia un'otturazione ben fatta e lo trovano anche nella poltrona vicino no allo stesso modo video di viaggio io ne faccio belli ma li fa benissimo anche balini li fa benissimo anche non so mattia miraglio viaggio col tubo tutti gli altri creator che poi ci conosciamo in un modo o nell'altro siamo siamo in pochi in italia essere travel youtube travel vlogger eccetera però ognuno fa modo diverso la gente segue me non perché io faccio il video di viaggio ma perché sono io a fare video di viaggio no è il modo in cui io racconto quello che hai detto tu no sono stato a torino caponord stessi posti ma il mio video non è bello come il tuo non è questione di bello non bello il problema che il mio video è mio e il tuo video è tuo comunque allora mille cose ve lo chiedete la prima la più importante dopo parliamo di altro è quella che adesso sembra un passaggio normale in realtà immagino abbia portato con sé dei traumi e che comunque sia stato foriero di ansie stress eccetera io guardando il tuo video qui parlo del passaggio da una vita normale quindi dentista a travel blogger travel blogger eccetera sembrerebbe dai un tuo video che complice sia stato l'incontro con una persona importante un guru in india che ti ha dato quel boost quella spinta per dire ma vaffanculo io voglio fare questo nella vita complice quando sei in due a fare una cosa principale responsabile quando è solo una farla ok ed è la seconda vabbè tu sei andato da lui però nel senso che cazzo o è lui che ti ha chiamato ah beh certo certo che ne sai che cosa ti ha detto cosa ti ha detto questo uomo che tipo di incontro è stato perché non l'ho trovato nei tuoi video forse c'è ma l'ho scritto nel mio libro in realtà nel mio primo libro l'anima invece passa la volta link in descrizione codice sconto ti ho sto dieci scherzo link in descrizione due libri la bella classica battuta no no tra youtuber si scherza e tra con gli amici di recente sono tornato da un viaggio in islanda con chi viene fare viaggi con me perché mi conosce mi segue ogni tre secondi si scherzava su sta cosa link in descrizione tipo ragazzi clicca qui per vedere un morismo da youtuber con il codice sconto ti ho sto dieci potete avere diritto una copia del mio libro autografata solamente per voi prego signor signore no allora no la che ti ha detto questo dai la questione anche a noi che ti ha detto io scherzo ma se ti dicessi che non mi ha detto niente che t'ha fatto lo sai tu è un mistero in realtà il punto è quasi a provimento un argomento potenzialmente gigantesco no è di molto difficile sintetizzarlo in poche parole si rischia anche non devi sintetizzarlo cioè si rischia di parlare del mio maestro parlare del mio rapporto con lui è l'unica cosa di cui abbia senso parlare per quel che mi riguarda no il motivo per cui non lo faccio è come disse nel vangelo gesù non dare le perle ai porci diciamo ma se ieri sei stato invitato visto nelle tue storie da fare un ritiro una cosa il senso ovviamente non è che chi ascolta che semplicemente su youtube ovviamente c'è una platea molto indifferenziata no è un momento in cui è un qualcosa di prezioso io per rispetto di quello che ho ricevuto per rispetto di ciò che ho vissuto e che vivo tutt'oggi in realtà ho ancora in questa fase della mia vita un po il desiderio di raccontare nei dettagli certe storie solo a chi ha realmente voglia di ascoltarle per questo è che l'ho scritta nel dettaglio nel mio libro perché chi nel dettaglio insomma molto approfonditamente nel mio libro poiché un video lo guardi distrattamente no un libro invece ti prendi del tempo cioè ti stai prendendo un caffè con lo scrittore e hai gli dedichi la tua serata e lui ti ascolta non è una cosa che guardi mentre sei in bagno quindi questo è un po il motivo per cui non lo trovi molto lo trovi solo menzionato no giusto un seme buttato là però visto che siamo in una bella chiacchierata lunga no è un buon modo è un buon momento per parlarne mio maestro che cos'è un maestro tanto per cominciare no diciamo che se tu vuoi imparare a fare un qualcosa vuoi imparare a fare le fotografie vai ai corsi di fotografie di stefano perché lui ha imparato a farle bene in partenza eccetera eccetera lui ti insegna dal punto a al punto b quel tipo di competenza ok qualunque tipo di competenza ha una sua cosa nel momento in cui noi consideriamo la vita come una competenza la felicità la piena realizzazione di se stessi nella vita e anche diciamo la piena apertura alla dimensione spirituale della vita come una competenza allora c'è bisogno di qualcuno che quella competenza ce l'abbia perché te la possa trasmettere no e quindi un maestro un maestro spirituale pienamente realizzato così definito come diciamo insomma molti conosceranno forse yoga nanda no il libro autobiografia di uno yoga non so se l'hai mai letto ok hai letto yoga nanda certo hai letto il capitolo dove lui parla del suo rapporto con shri yuk teshwar segue se hai letto yoga nanda sì è del tipo uno di dove lui parla del rapporto col suo maestro sostanzialmente all'inizio più o meno e in realtà per tutto quanto il libro ma c'è un capitolo in cui lui parla proprio di questa cosa ti consiglio di andartelo a rileggere perché è molto bello ma essenzialmente in quel capitolo lì con i vari distinguo avrei potuto scriverlo di mano mia quindi il rapporto con con un maestro spirituale pienamente realizzato è di questo tipo qua cioè è una una persona che ha incarna perfettamente la completezza dei valori della vita la completezza della possiamo chiamare anche di di quella grande verità che avvolge tutto quanto che in ambiente cristiano possiamo chiamare dio diciamo ed in grado di trasmettertela è in grado di fartela percepire e di darti insomma una una ricetta in qualche modo passo dopo passo perché tu possa trasformarti al suo interno in qualche modo poterne far parte della tua vita che cosa è successo che quindi venendo un po alla domanda che mi hai fatto no ti ho spiegato un po il contesto ma che cosa ti ha detto il punto è che un vero maestro non ha bisogno di dirti niente nel momento in cui lo guardi negli occhi capisci già un pacco di roba se sei predisposto se hai un certo tipo di di prontezza se vogliamo no anche di tempismo nella vita per questo tu mi dici tu sei andato a incontrarlo il modo in cui sei andato a incontrarlo è stato totalmente fortuito quindi delle volte mi viene il dubbio non è che per caso lo dovevo incontrare non sono io ad aver scelto di incontrarlo perché di fatto io non volevo andare a incontrarlo mi ci trascinarono sostanzialmente quindi in india è accaduto no è successo a torino era qua in italia era torino la mia città natale ho vissuto per un sacco di tempo nel 2016 ci siamo incontrati da lì iniziai a seguire i suoi insegnamenti in maniera sempre più attiva fino eventualmente poi a trovare in questo percorso spirituale che ho iniziato sotto la sua guida tutte le risorse di cui avevo bisogno per fare quel redraw your life che dicevi tu prima no forse avrei visto quel video sul mio canale l'anno più incredibile della mia vita no e quel video dove tutti gli anni sono l'anno più incredibile esattamente quelli video il video di presentazione essenzialmente di questo si tratta no quando mi chiedono ma stefano ma come hai trovato il coraggio di abbandonare una strada sicura per eccetera eccetera no e la risposta è il mio maestro non è nient'altro e come si chiama che ha un nome difficilissimo paramahamsa è un titolo quello come paramahamsa yogananda paramahamsa shri svami vishvananda 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 tradizione è un titolo anche quello di origine vedanta induista induista di origine lui è mauriziano quindi comunque si stiamo come area di riferimento stiamo innanzitutto nella cultura vedica cultura vaishnava specialmente e anche il vedantismo poi non entriamo nella teologia induve sono cose complicate perché abbiamo qualche libro qua se vuoi e come è andato questo primo incontro? c'era lui che parlava? no il primo incontro la prima volta in cui l'ho incontrato era un cosiddetto darshan darshan deriva dal sanscreto significa vedere sei mai stato in india tu? sì avrei fatto caso che in india ci sono tanti templi e davanti a questi templi la maggior parte delle persone del villaggio così fa la fila tutti i giorni si mette in coda per e poi che cosa fa? va davanti alla divinità semplicemente per vederla magari mette 5 rupie magari mette un fiore magari mette da qualcosa ai bremini e poi vanno queste calche di gente che passano per 3 secondi davanti alla divinità per salutarla sostanzialmente per vederla ok? e per essere di riflesso visti dalla divinità quello loro lo chiamano darshan ok? quindi darshan vuol dire vedere e quindi niente quel momento di contatto eye contact no? contatto visivo con la divinità questo nell'universo religioso quindi templi divinità eccetera no? nel contesto del rapporto con un maestro per quella che è la cultura indiana un maestro pienamente realizzato porta con sé la benedizione divina in qualche modo per cui incontrarlo fisicamente guardarlo consente in qualche modo di ricevere questa benedizione e di fatto questo evento qua non era altro che una situazione dove lui era seduto in una sedia in centro alla stanza c'erano decine 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 di no centinaia in realtà di persone che facevano la fila per così avere 30 secondi a tu per tu con lui dove tipicamente lui ti guarda negli occhi un sorriso una caramellina e finisce lì per questo che dico non mi ha detto niente non mi ha realmente detto niente e tu prima non lo sapevi chi era questo? no sapevo che era quello perché chi mi aveva invitato a quell'evento lì mi aveva spiegato un pochino come funzionava mi aveva detto guarda che è una roba rapida in realtà non è che devi cioè se vuoi puoi stare anche tutto il tempo a vedere il resto ma non avevi letto niente lui non so se ha scritto cose lui ha scritto tantissime cose più che scritto di suo pugno diciamo i monaci che lo seguono hanno scritto hanno trascritto molti maggior parte dei suoi discorsi dei suoi satsang come si dice con le sue lezioni ci sono commentari suoi originali e le principali scritture indiane cosa che io personalmente consiglio a chiunque di leggere almeno uno di questi libri molto breve ma che è straordinario che è la Bhagavad Gita commentata da lui è una cosa strepitosa veramente è in assoluto il libro più importante che abbia mai letto nella vita tu l'hai letta dopo averlo incontrato cioè tu hai subito questa scossa elettrica io non avevo mai non sapevo neanche a momenti non sapevo neanche dove era l'India scherzo ovviamente l'India la sappiamo tutti dove è no vero? giù là essenzialmente questa è la cosa interessante molti si approcciano un maestro perché lo cercano da tanto tempo per esempio in Yogananda nel suo libro lui da picco lui sognava di trovare il suo maestro mia moglie a un certo punto della sua vita cercava ardentemente un maestro che la guidasse nel suo sviluppo spirituale io no, per niente non mi interessava neanche allontanamente facevo la mia vita normalissima però in India c'è un proverbio quando l'allievo è pronto il maestro compare spontaneamente ed è esattamente quello che è successo con me da lì la mia vita è cambiata completamente se devo indicare una cerniera nella mia vita una cesura che per sempre definisce un prima che è preistoria e un dopo che è storia così come fu l'invenzione della scrittura per l'umanità quello è quel momento lì quali sono le caratteristiche del nuovo Stefano che si sono aggiunte dopo questo incontro? sono caratteristiche informazioni naturalmente poiché non è che tu incontri un maestro e ah ho visto la luce e quindi sei automaticamente un santone che gira per le strade con la macchina fotografica assolutamente no e innanzitutto la presa di consapevolezza di lati oscuri che abbiamo lati che nascondiamo che non abbiamo il coraggio bene di guardare e la determinazione a lavorarci sopra costantemente la presa di consapevolezza insomma della natura delle cose di come si muove la vita di quali sono le leggi essenziali che regolano ciò che mi piace fare ciò che mi accade le persone con cui mi trovo questa stessa conversazione io non avevo la minima idea che saremmo finiti a parlare di questo ma ora capisco perché ci siamo incontrati sostanzialmente no c'è anche Anuman qui vicino che ci saluta e quindi essenzialmente ripeto è un percorso no per cui diciamo in estrema sintesi quindi la capacità di avere la chiarezza di ciò che nella vita ha un senso e su cui vale la pena investire e su ciò che in realtà è semplicemente teatro è semplicemente uno spettacolo laddove la stragrande maggioranza delle cose a cui noi diamo importanza mediamente è solamente uno spettacolo è solamente un dramma che si consuma perché noi capiamo cose più importanti e c'è qualche routine che hai aggiunto nella tua vita certo assolutamente tipo essenzialmente ovviamente poi seguendo i suoi insegnamenti iniziai a anche a prendere familiarità con le pratiche spirituali che lui insegna essenzialmente una forma di Kriya Yoga l'atma Kriya Yoga che lui insegna tu avendo detto Yogananda avrai sentito parlare del Kriya Yoga sono molti devoti di Yogananda che ci sono che in Italia perché lui discende da quel lignaggio è nello stesso lignaggio diciamo l'area di riferimento è la stessa tant'è che ci sono moltissime persone è molto motivante Yogananda è uno dei guru secondo me più straordinario Yogananda una cosa che mi piace perché poi ognuno ha bisogno del suo guru come dici te lui che trova te non si capisce però a me ha aiutato tanto Yogananda per delle tecniche di preghiera delle invocazioni cioè ci sono dei libri di Yogananda proprio che sono anche lì delle trascrizioni di sue invocazioni e tipo per guarire tipo io ho avuto nei momenti drammatici di insonnia pazzeschi e la lettura dei suoi scritti la recita cioè lui ti spiega proprio come recitare ad alta voce alcune invocazioni eccetera mi ha aiutato tantissimo esempio? ce n'hai uno al volo? sono in sanscrito immagino no no sono tradotte in italiano no no proprio lunghe cioè io sono la mia malattia fa parte di me sono proprio autosuggestione si si tradotte poi in italiano esatto e mi ha aiutato tantissimo cioè ha prodotto in me degli risultati magici dove per magici ovviamente io intendo energeticamente no 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 usa la parola sono magici cioè non c'è nessun timore chiamiamo le cose con il loro nome combinazione sono stato due giorni proprio da ieri l'altro ieri scusa a fare combinazione ho incontrato il mio vecchio professore di religione del liceo dopo vent'anni che non lo vedevo per caso anche lì dopo tre minuti che parlavamo del più e del meno lui che è una persona come dire molto molto sincera sai quei sacerdoti quando li incontri dici ah questo questo c'è questo è nel suo posto è perfettamente allineato è un cattolico sacerdote cattolico sì perché appunto il mio insegnante di religione beh andavo a scuola dei giuseppini o al liceo quindi mancava questo contesto era un prete a volte gli insegnanti perché per me è scontato che gli insegnanti di religione siano preti nel mio modo però in realtà potrebbero essere lui si rese conto in tre minuti essenzialmente che nella mia vita era cambiato qualcosa di importante che c'era stata un'importante trasformazione spirituale e abbiamo avuto un modo di approfondire parla che ti parla parliamo di due contesti molto diversi cioè lui parla un contesto cattolico e gli ho raccontato ciò che ho imparato conoscendo la cultura il stanatana dharma quindi quello che noi chiamiamo induismo che insomma la legge eterna della tradizione vedica che poi ho grazie alla quale ho poi riscoperto anche la profondità del messaggio cristiano perché poi sostanzialmente sono più sovrapponibili di quanto si possa immaginare ma ci siamo trovati a conversare di questi argomenti lui mi fa senti tu sei sei troppo nel senso e non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere da te per come mi ricordavo te della pre-story diciamo e per quello che fai nella vita per come lo fai eccetera anche per quello che ho visto nei tuoi video eccetera se tu testimoniassi certe cose con dei ragazzi sarebbe veramente una bella cosa e sono andato a parlare con loro in questi ultimi due giorni è stato bellissimo e essenzialmente quello che ho condiviso con loro è in lungo diviso in due giorni quello che un posto cercando di condividere con te adesso cioè una trasformazione completa che appunto essenzialmente non sarebbe in alcun modo stata possibile senza il rapporto con il mio maestro il mio maestro è la cosa in assoluto più sacra che io abbia nella mia vita è più sacra di mia moglie è più sacra della mia famiglia è più sacra di qualunque cosa ho la fortuna la benedizione di condividere questo aspetto con le persone che mi sono vicino mia moglie soprattutto ma insomma mia madre la mia famiglia tutti quanti ok poiché è talmente prezioso è talmente incredibile ciò che accade nella tua vita nel momento in cui tu inizi a guardare alla vita come si deve sostanzialmente che non c'è nient'altro cioè se io penso al me stesso di sette anni fa che peraltro è il me stesso di alcuni video no io vedo un ragazzo che ha magari delle potenzialità vede delle cose ma vede essenzialmente un'anima con i piedi legati che cerca di correre ma non può farlo il mio maestro mi ha sciolto questo nodo ora parlando delle pratiche quotidiane eccetera no ma che bello quando gli ospiti si prendono il punto allora sai che non perdono una parentesi c'è nel campo la stessa energia che percepivo con il lama michelle cioè stai veramente perché qui si sta parlando della differenza fra cercare istruzioni su come vivere che è il nostro approccio e invece il contatto energetico cioè quella trasformazione che non è verbale non è mentale e tu stai perfettamente trasmettendo questa forma di energia qua che non è dire qualcosa che ti trasforma ma è proprio cambiare il campo fondamentalmente esattamente cambiare la frequenza il punto è l'hai detto tu stesso all'inizio in realtà no la ricetta è non è cosa fai ma è come lo fai non è la preghiera che leggi al mattino che ti trasforma ma è la la consapevolezza il background da cui parti nel momento in cui la leggi ora io mi hai chiesto la pratica quotidiana eccetera io ogni giorno più o meno mal contate sommate ho circa un'ora di disciplina spirituale ok che passa da un momento di preghiera vera e propria passa da un momento di meditazione di Atma Kriya Yoga insomma la tecnica yoga insegnata trasmessa dal mio maestro in come cosa consiste? la respirazione? sono una serie di tecniche è un insieme di tecniche che passano dal Japa che sia la ripetizione di mantra in continuazione a voce alta o mentali? idealmente voce alta ma puoi farlo anche mentalmente diciamo insomma dipende un po' anche da come sei magari sei in mezzo se sei nella metropolitana non è che inizi dire om namo darai tutto insieme lo fai in maniera magari silenziosa più discreta eccetera oppure delle tecniche di respirazione magari ascrivibili un po' al pranayama diciamo se chi conosce chi ascolta ciao ascoltatori chi ascolta chi conosce tutti i nostri sanno un po' quindi pranayama oppure delle posture dei mudra eccetera o tecniche di respirazione insomma quindi è un po' non è una tecnica sono tante essenzialmente alcune sono più importanti io tendo per ragioni spesso di tempo a concentrarmi su quelle principali che mi sono state indicate come principali e poi dicevo questa cosa qua rappresenta un po' una tua disciplina quotidiana che piano piano ti trasforma ti trasforma insieme al fatto di periodicamente restare in contatto con gli insegnamenti del tuo maestro perché tu non è che se vuoi imparare una qualunque cosa la competenza di cui parlavamo prima non è che vai a prendere una lezione di tennis da Djokovic no? perché ti dice guarda infatti perché da come l'hai detto all'inizio sembra che boom ti ha flashato negli occhi e da lì è cambiata la tua vita mi interessava è l'inizio di un problema quello è l'inizio il momento in cui in realtà non fu neanche il primo incontro in cui io lo riconobbi come il mio maestro nel senso che io non ti mollo più per tutta la mia vita ok? fu il secondo incontro il primo incontro fu ah beh però cavoli bello non mi aspettavo effettivamente una bella sensazione eccetera poi vabbè insomma sono successe un sacco di cose magari mi fermo perché sennò poi finiamo un po' sul lungo vorrei farmi una domanda mi sembrava dal tuo sguardo no no appunto il primo incontro io ero sono arrivato in questo in questo bocciodromo essenzialmente torinese dove avevano organizzato questo evento convinto di essere finito in una manica di pazzi questa fu la mia bottom line appena arrivato là no? ok qua sono tutti rincoglioni ma completamente no? vediamo perché cosa facevano? cioè li vedevi da come erano vestiti un po' da come erano vestiti un po' tutti felici un po' tutti che cantavano che ballavano ne faccio a regalo presento ma che ci avrete da cantare da ballare ma che ci avrete mai da ridere come quelli del doppiaggio di Celenza che parla di quindi sai immagina tutto questo in realtà per dire forse molti di voi forse qualcuno di voi l'avete incontrato per strada i membri dell'organizzazione Iscon Iscon che comunemente è detti Hare Krishna Iscon International Society for Krishna Consciousness quindi detti Hare Krishna perché ripetono questi che droghe si fanno esattamente la reazione è esattamente quella là perché comunque ci sono diverse somiglianze tra l'universo di Hare Krishna l'universo dell'organizzazione che fa capo al mio maestro qua sono tutti pazzi però dico ho promesso che venivo erano successe una serie di cose incredibili perché io andassi là talmente comunque arrivo lì ci sarà il suo motivo per cui sono qua già dal tempo avevo una mia un po' apertura spirituale al fatto che le cose non accadano per caso al fatto che in qualche modo lo si intuisce anche nei miei video nei discorsi finali c'era già i prodromi i prodromi c'erano c'era un terreno fertile dove sarebbe potuto crescere qualcosa e mi metto in coda con questa persona seduta lontana la vedo piccolina abito sgargiante pelle scure e faccio ma sarà forse lui ma si immagino sarà lui sicuramente mi avvicino un po' e mentre mi avvicino mamma mia sta gente qua tutti a cantare sono tutti pazzi qua vediamo quanto manca 8 e mezzo andiamo di 9 e mezzo ce ne andiamo a casa dai questo era il mio mindset se ci penso io rido perché puoi sapere cosa mi è cambiato dopo comunque mi avvicino sempre di più però mi accorgo a questo punto mi mancano 5-6 persone davanti e inizio a vederlo in maniera un po' più nitida dico guardo sai che forse proprio pazzi pazzi non sono forse forse effettivamente qualcosina c'è lì avvicinano di più mi mancano due persone davanti a me lo vedo sempre più vicino a me vedo che dai il darshan alla persona davanti a me dico no qua non sono pazzi qui c'è qualcosa qui c'è qualcosa che io non ho visto e nel momento in cui poi ho fatto il darshan abbiamo avuto mi ha scambiato due parole del tipo ciao quindi tu come ti chiami Stefano ah perché mio fratello lo conosceva da tempo per cui da un annetto in realtà soprattutto mia cognata la moglie di mio fratello per cui erano presenti anche loro anche loro a mia cognata gli fa ah ma quindi lui è il fratello di Cristiano ah bene 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 ti chiami Stefano perfetto contento di vederti boh finito fine facciamo il darshan mi guarda negli occhi per quei 30 secondi senza toccarti non ti ha toccato allora a volte toccano al giorno d'oggi per storie covid hanno smesso di fare così ma al tempo si ti toccava la testa ti metteva una mano in testa e tu eri proprio a contatto visivo con lui no? che sfido il covid non ti ha permesso però ha funzionato lo stesso a quanto pare no no ma era prima parliamo ah tu prima ok ok prima adesso si fa in me diciamo che comunque si stiamo lì guardo negli occhi e io in quello sguardo vedo una una quantità di amore che non avevo mai visto prima cioè era messo insieme se posso spiegarlo con parole ciò che non si può spiegare a parole l'amore di mia madre mio padre mio fratello la mia ragazza al tempo non avevo non c'era mia moglie però la mia ragazza del tempo mia nonna tutte le persone che mi hanno voluto bene il mio migliore amico tutte le persone che mi hanno anche un briciolo amato nella mia vita insieme a quelle che mi hanno amato tantissimo tutte insieme per dieci quello era era la sensazione che mi trasmetteva con quello sguardo non mi ha detto niente no e io non la capivo quella sensazione perché c'è che cosa sta succedendo fu solo una cosa molto bella di per sé infatti è che finì il riso di una caramellina e insomma lui aveva queste caramelle che dava così in dono che a modo e anche che te la dà prima che dici era drogata sì dopo gli ha dato perché sennò no erano caramelle standard quelle la frutta non so bene in realtà è un po' per per dare un po' un contesto alla benedizione che stai ricevendo non so come dire poi in realtà nella cultura vedica quello è prasad quindi cibo cibo benedetto in qualche modo come se fosse una specie di comunione per dire anche se il paragone è improprio sì sì no ma è chiaro per far capire quindi e poi vado a posto e mi ricordo che lì ero con la mia ragazza del tempo che per n motivi era incazzatissima quel giorno non voleva assolutamente venire era un po' lei era scoperta a piangere purtamente pianto a dirotto io no però ero perché anche lei ha fatto eravamo insieme eravamo abbiamo fatto insieme ah ok ok e e così insomma io cavoli bello però interessante no poi passano in realtà è successa un'altra cosa adesso ve la racconto normalmente la ometto questa cosa perché però è interessante raccontarla il giorno dopo anzi quel giorno stesso lì mio padre compiva gli anni no era era il giorno del suo compleanno mio padre non è molto interessato alle questioni spirituali così però in realtà ha una sua profonda sensibilità cioè lui ha viaggiato in India tantissime volte 14 volte mi pare sia stato comunque è super interessato in realtà ma non così tanto da dire che ne so prendo e vado apposta a conoscere un maestro cioè è una cosa che è un po' fuori dal suo dal suo campo visuale no mia cognata al tempo era molto vicina ancora oggi al tempo era molto vicina al mio maestro nel senso si parlavano spesso eccetera ed era e c'era stata questa situazione dove eravamo andati a fare questo darshan io mio fratello mia madre e mio padre non c'era ma perché perché i miei genitori perché sarebbe venuto normalmente mio padre però erano appena tornati da una da una vacanza erano stati in viaggio in Sudafrica se non ricordo male e c'erano 12 ore di volo alle spalle così mio padre era stanco insomma però essenzialmente la la compagna di mio fratello disse ma sai che oggi il compleanno del papà di Stefano e di Cristiano potrebbe essere insomma potrebbe essere cioè ti invitano a cena per festeggiare comprando con lui ma l'ha buttata così essenzialmente e lui disse sì accettato quindi essenzialmente mi sono trovato a casa dei miei genitori a cena Paramahamsa Svamevishvananda no e e cosa c'è il tacchino ovviamente no cena doveva essere il cinghiale è buono l'abbiamo ammazzato ieri ancora sanguinolento è buono è buono questo è fresco aveva solo tre anni no c'era ovviamente vegetale tra l'altro una cosa molto comica che lui non si muoveva da solo si muoveva con una serie di suoi monaci che lo seguivano più alcuni suoi devoti che gli stavano particolarmente vicino però laici diciamo e morale della favola eravamo in venti a cena e i miei genitori erano appena tornati da una vacanza il frigo era vuoto ed era domenica no mia mamma va nel panico e faccio io che cacchio di prepara sta gente qua no è un disastro e così finì per preparare un po' di cose che lei aveva così una pasta insalata una torta salata vegana non so bene com'è e per il resto andò a comprare delle cose prefatte no tipo dei falafel come ora facciamo una cena vegetariana nel tempo non eravamo vegetariani in famiglia per cui c'era neanche c'era tanta carne in frigo ma non si poteva no e durante quella cena accadrò una serie di cose meravigliose stupende a parte che la presenza di averlo al tavolo di averlo lì a fianco a me come siamo io e te adesso era stranissimo no io non sapevo niente di lui ripeto proprio zero dal giorno prima non è che me l'ho documentato non era proprio fresh una pagina bianca zero pregiudizi zero aspettative non avevo neanche mai letto di maestri indiani niente sapevo quindi sono fiero di poter dire che il mio approccio con lui non può minimamente essere frutto di alcuna suggestione perché essenzialmente non c'era il background perché ci fosse essenzialmente io mi sono trovato a scoprire un qualcosa di nuovo molto spesso uno magari legge cerca un maestro così allora nutre delle aspettative e poi questo finisce per incastrarle delle volte in quello che gli capita io al tempo facevo cose completamente diverse allora dissi che parlai al mio maestro mi chiedi allora tu cosa fai nella vita io faccio il dentista ah bello e mi son detto wow chishto nosandone magari c'è da benedizione sul fatto che sto aprendo lo studio tra poco perché stavo aprendo il mio studio in quel momento lì io ero proiettato verso la via dentistica dico peraltro starei aprendo il mio studio no e lui fa nice bocca al lupo io un po' freddo vabbè comunque ha detto in bocca al lupo ce lo portiamo a casa è meglio meglio che un calcio sulle gengive come dicono i dentisti e poi c'era uno a tavola mi disse ma Stefano ma tu che ti piace fare le foto facevo già i viaggi al tempo ti piace le foto ti piace l'aurora boreale fagli vedere una foto dell'aurora boreale fagli vedere una foto di quelle cose che fai e lui dico beh perché no tiro fuori il cellulare la mia ultima foto dell'aurora boreale una foto un'aurora bellissima stupenda fotografata in Islanda nell'aprile del 2016 e e dico ma poi mi piace anche fare foto così tempo per cioè un hobby una passione viaggiare mi piace mi fa che foto ti piace fare mi fa tipo questa no gli passo il telefono e lui vede la foto dell'aurora boreale nel momento in cui prende il telefono in mano lui mi fa wow ah la differenza ha detto ha avuto un urlo a tavola sono tutti fermati sono girati cosa hai visto poi quando gli fa vedere che era una foto la gente ah una foto bella 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 bravo però questo urla per una foto no mia cognata che marina donna straordinaria insomma lo seguiva da tanto tempo pertanto aveva già iniziato a parlare un po' la sua lingua no a capire certe cose perlomeno per quello che si può capire di fronte al mistero che costituisce un maestro pienamente realizzato però mi fa guarda che a lui non interessa mica la foto che hai fatto lui semplicemente si accorge dell'amore con cui l'hai fatta e se ti ha risposto in quel modo quando hai detto del tuo studio che probabilmente forse tu quella cosa non la ami così tanto ed era vero no però quella 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 fu l'episodio culmine per me di quella cena dove accadono tante altre cose fu una bellissima serata ma poi finì lì lui parte va per la sua strada e io continuo la mia vita con la mia fidanzata del tempo con l'inizio del stavo avviando questo studio insieme a un socio eccetera e poi all'improvviso tre settimane dopo tutto quello che avevo costruito nella mia vita si sgretola ma proprio a livello di destrutturazione nucleare si polverizza quindi lo studio che stavo rilevando con un mio amico si rivelò una specie di truffa sostanzialmente nel senso che chi ce lo stava vendendo ci aveva un altro giro ma fortunatamente ci siamo accorti in tempo prima di prima di buttare via qualche denaro e quella che era la mia ragazza al tempo iniziò a dare dei palesi segni di insofferenza nei miei confronti basati proprio sul fatto che a me piaceva viaggiare che voglio dire lo sapevano fino a due minuti prima però all'improvviso la cosa era diventata troppo pesante non si riusciva a gestire morale faccio breve in una specie di esplosione nucleare che disintegra tutto ciò in cui credevo in quel momento lì mi trovo in breve con la vita personale privata semi distrutta con traumi notevoli anche dal punto di vista personale con il mio lavoro che è semi disoccupato praticamente e con una praticamente la vita che era una specie di campo di macerie su cui dovevo ricostruire qualcosa no cosa ricostruisco ricostruisco le stesse cose che ho fatto prima o provo a fare qualcosa di nuovo lungo periodo di gestazione lungo periodo di confusione anche interiore e alla fine decido di provarci perlomeno no decido che proviamo a trasformare il travel photographing youtubing whatever in un lavoro vero e proprio no al tempo non è che ci fossero tutte le condizioni per farlo parliamo in termini di follower così per fare un po' i social mia pagina facebook aveva 4000 follower quella instagram l'avevo aperta un anno prima ne aveva 2000 forse non so bene cioè non c'erano le condizioni numeriche non so come dire sì 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 quindi sostanzialmente decido di fare questa cosa qua e poi capita col passare del tempo che a settembre di quell'anno spunta un nuovo darshan in svizzera e allora dico decido proprio la sera prima con mia madre che facciamo andiamo andiamo partiamo andiamo su e succede sostanzialmente questo che io ero in mezzo a tutta questa folla di nuovo stavolta in una situazione in cui avevo un po' di familiarità entra e lui inizia a fare un discorso alle 500 persone lì davanti fa un discorso sul ruolo che ha la sofferenza nella vita essenzialmente sul fatto che le situazioni dove noi soffriamo sono un po' come una fornace diciamo dove Dio ci impone di passare poiché ne usciamo purificati così come una pepita di oro grezzo piena di sporcizia e di impurità deve passare nella fornace per uscire oro puro ok e ricordo che lo ascoltavo e diciamo sta parlando a me in questo momento no magari parlava anche a tante altre persone ma io la mia personalità la mia percezione fu che quel messaggio in qualche modo era costruito su misuro su ciò che stavo vivendo in quel momento lì e così ci mettiamo in fila andiamo eccetera eccetera arriviamo in questo situazione in cui normalmente si sta 30 secondi ok sorriso ciao come stai invece come ti chiami Stefano mano sulla testa occhi negli occhi e via come qualche mese prima no arrivo e io ci avevo un po' una mezza non si ricorda di me magari no cioè stati sei mesi fa però comunque era venuto a cena da noi ma magari se gli dico ti ricordi sono ah sì quello della foto quello della foto vado lì li faccio ma primo ciao ti ricordi sono il fratello di no lui mi guarda brutto ma proprio brutto tu pensi che non sappia chi sei no ti scusa io veramente non volevo perché mi si intrecciavano i dì fantoziano come c'era no poi però subito mi fa un sorriso mi chiede allora come stanno come sta tuo padre perché lì non c'era mio padre eravamo solo io mia mamma come sta tuo padre tuo fratello no stanno bene grazie e poi mi fa un sorriso e la tua ragazza come sta tecnicamente non stiamo più insieme e mi fa proprio come quasi semi divertito tra virgolette non stupito di già un giorno ti vuoi bene il giorno dopo non ti vuoi bene un giorno non stai insieme un giorno non stai insieme così in fretta so quickly e io in quel momento lui mi chiede semplicemente come è possibile così in fretta però io in quel momento capii che lui aveva a che fare con quello che era successo non sto dicendo che fa il sortilegio dico semplicemente che lui lo sapeva in qualche modo cioè era evidente che non era minimamente sorpreso che stava semplicemente recitando la parte dello stupito perché avessimo un'interazione io e lui in quel momento lì no e gli ho detto beh in realtà sono cambiate tante altre cose no da quando ci siamo incontrati per esempio cosa è cambiato dimmi cosa è cambiato io mi ho pensato che forse non so forse potrei provare a dedicare la mia vita a qualcos'altro a redraw my life no come dicevi tu prima e e fai tipo 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 cosa 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 fai cosa vuoi fare cosa vuoi fare ed era curioso era attivamente curioso al tempo io mi ero portato in tasca tipo un micro bigliettino da visita da fotografo che mi ero costruito per iniziare a provare un po' a fare questo lavoro con l'idea di farglielo vedere scaramanticamente no sai tipo benedici anche lì come prima come sei mesi prima faccio al posto di benedire lo studio esattamente faccio fotografo questa è la carta potesse dare una benedizione maestro l'approccio era quello in realtà no lui guarda Stefano Tiozzo fotografo quando finisci neanche di leggere la parola fotografo no scoppia in un'esultanza da stadio no proprio yes 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 come se aveste letto la cosa più bella del mondo e lui non sapeva niente non sapeva niente in teoria di ciò che faccio no e mi fa fallo 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 assolutamente do it e ok insomma figo stai calmo cioè perché poi in quella situazione eravamo in tanti no dietro di me e stavamo parlando tanto eravamo già due minuti che stavamo conversando dico e poi iniziava a dirmi le cose ma che bello che bello quindi verrai verrai magari nei prossimi giorni in Ashram che bello sì lui è un Ashram a Francoforti in Germania no e quindi non distante da da qua e e quindi semplicemente poi magari ci vediamo nei prossimi giorni magari avremo modo di parlare un po' più con calma adesso scusi ma c'è tante persone tante persone dietro no di nuovo mano sulla testa occhi negli occhi ora quella sensazione che ti ho descritto prima io adesso che te la racconto ho la pelle d'oca è stato sette anni fa quasi ma cioè qualcosa proprio di fisico di oltre fisico oltre fisico no di cioè guardarlo negli occhi vedere in quegli occhi tutta quella immensa mole di amore che avevo visto prima ma moltiplicata della serie mi sto prendendo cura di te non preoccuparti sei sulla strada giusta sta andando tutto bene tutto quelle queste cose lui non mi ha detto niente ma questo era quello che il suo sguardo mi comunicava no con un'espressione più neutra possibile questa è l'espressione che lui ha nel momento in cui a volte abbozzo un mezzo sorriso ma ma non so neanche quanto sia c'è lui in quel momento in un altro stato e diciamo le senti queste parole o le percepisci basta è un'emozione ti sto rendendo in parole una sensazione che è astratta di per sé no però finito questo io ti giuro sono andato a posto pianto per 20 minuti di fila 20 minuti non stop no adesso che te ne parlo ho di nuovo gli occhi lucidi perché solo ricordare quel momento lì è stato forse uno dei momenti più miracolosi di tutta la mia vita in quel momento lì tutto quanto finiva in un punto ben preciso questo punto ben preciso era ovviamente lui in quel momento e da lì capì ok lui sarà il mio maestro tutto ciò che potrò imparare da lui cercherò di impararlo e periodicamente adesso vai e poi ovviamente sono successo tutta una serie di altre cose il nostro rapporto si è fatto sempre più sempre più stretto poiché io lo vedo molto spesso io ogni volta che ho un'occasione io vado a incontrarlo che sia nel suo monastero Ashram monastero in Germania che sia in giro per il mondo a seconda di dove si trova essenzialmente è il fulcro della mia vita intorno a cui tutto quanto ruota e come fai a resistere alla tentazione di non parlarne perché oggi è la prima volta che ne parli non è la prima volta ne parlo o comunque di parlare in maniera così approfondita perché non c'è una playlist del tuo canale youtube che parla di queste cose perché non posso guardare chi mi ascolta negli occhi cioè senti che il mezzo digitale sia non sia quello giusto per comunicare determinate energie non lo so è probabile che probabilmente io non sia semplicemente pronto a questo no ma tecnicamente non il mio timore se vogliamo in qualche modo è di sminuire attraverso una divulgazione indiscriminata essenzialmente tutto ciò che come dire ciò ciò che di più sacro ho nella vita tu dici perché me lo racconti qua in questo momento perché sto podcast durerà due ore non so non so che ore sono sostanzialmente però abbiamo fatto un'ora e cinque minuti per adesso chi è chi è che si metta ad ascoltare tre ore di intervista a Stefano Tiozzo di solito duemila tre mila persone però secondo me sto giro un po' di più tu sei famoso nel mio caso probabilmente persone che hanno realmente interesse a sentire non uno che cerca video a caso e poi viene fuori per inciso comunque c'è una playlist in cui ne parlo io di questa cosa qua c'è una playlist dedicata all'India e lì c'è quell'argomento comunque è presente non è obbligatorio ma te lo dico praticamente lo cito per me è andata al contrario cioè io quando ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della spiritualità anch'io come te non la cercavo anzi l'ho ripetuto mille volte però mi piace il cinema ero un fan di David Lynch lo sono tuttora tanta roba infatti e dal suo sito all'epoca aveva il sito che era a pagamento proprio devi fare una subscription e compare un banner con questi santoni pensavo fosse sai una nuova trovata surreale del regista californiano e invece no parlava di meditazione da lì ho iniziato a meditare lo dicevo a tutti ragazzi no mi ha cambiato la vita ma non avevo mai letto niente come hai detto tu ma io lo dico a tutti non sapevo niente nel senso quando qualcuno mi fa una domanda precisa no? nel senso fai bene io ti posso dire fai bene perché io invece ho fatto addirittura mi sono messo proprio a fare il divulgatore della meditazione ultimamente faccio un po' fatica perché rispetto a quando sono partiti noi siamo partiti con Money Surfers nel 2010 e abbiamo detto vabbè ma noi tra l'altro facciamo anche meditazione la meditazione ci aiuta a essere più centrati più lucidi anche nel momento degli investimenti eccetera quella roba lì sembrava una buffonata e invece sono arrivate migliaia e migliaia di persone che l'hanno capita e solo che poi adesso è un po' diventata una moda quella della spiritualità della meditazione dello yoga e non riesco più tanto ad associarmi cioè chi non mi conosce non lo sa che noi da tanto tempo ne parliamo e ci affastelliamo tutti in una comunicazione modaiola di gente che dice io faccio quello faccio quello questo è uno dei più grossi problemi della spiritualità al giorno d'oggi nel senso che viene trattata essenzialmente come una moda ma perché per molte persone è esattamente quella roba lì ok cioè quando uno pensa a spiritualità o pensa a religione buuu bigotto noioso eccetera o pensa essenzialmente a dei fricchettoni che non sanno neanche dove abitano ok del tipo stamattina ho sentito l'universo mi ha parlato ho sentito un cerchio di luce stupendo pazzesco no no poi benissimo poi sono dei disadattati di più delle volte sì non sono in grado di prendersi curi di se stessi no ma sai cosa alla fine nella vita è successa sai no a volte l'universo delle vie strane si vede che dovevo restare disoccupato per 15 anni della mia vita li conosciamo bene perché tanti sono anche i nostri corsisti mi ricordo sempre quando noi abbiamo fatto dei corsi a Bali in Indonesia abbiamo portato la gente a fare surf hanno sbagliato a organizzare sta cazzo di surfata erano 25 persone che surfavano insieme si sono massacrati uno contro l'altro una si è spaccata la gamba io sono andato e gli ho detto è finita adesso questi mi denunciano cioè perché li abbiamo fortunati per colpa nostra invece vado là mi dico Davide grazie grazie perché era proprio di questo che probabilmente avevo bisogno ma questo in realtà ci può ancora stare di sfondarmi per certi versi ci può stare questo dipende in che contesto lo inserisci cioè probabilmente se io mi spaccassi una gamba a un tuo corso di surf reagirei quasi nello stesso modo probabilmente non ti direi oh grazie Davide un bestemmino così veloce meno male che sei tu grazie che mi hai fatto spaccare una gamba probabilmente reagirei nel senso ok se mi sono spaccato una gamba evidentemente c'è un motivo cerchiamo di capire qual è ok ma quello che io anche comunicavo a questi ragazzi in questi due giorni nel senso che la spiritualità non è una roba campata per aria una roba fatta per individui aerei che non hanno radici per terra è la cosa più radicata che esista è la cosa più concreta che ci sia spiritualità è pratica nella vita quotidiana è una cosa che trasforma realmente la tua vita non per finta cioè non stiamo parlando di fantasie di raccontarsi una storia e di crearsi un sistema di visioni intellettuali che in qualche modo tu incastri nella tua vita eccetera no funziona nel momento funziona nel guardare le cose per quello che sono chiamare le cose con il loro nome senza sconti con un'onestà che in certi casi può essere spietata verso te stesso al contrario quello che accade è che molte persone usano la spiritualità per raccontarsi delle favole non hanno il minimo radicamente questo che poi contribuisce al marketing negativo di questo approccio alla vita ed è un marketing negativo che intendiamoci dipende ovviamente dalle persone e non ha il più delle volte a che fare con il percorso che uno segue poiché questo genere di persona chiamiamo questi due tipi di persone sono due estremi poi ovviamente c'è tutta la scala di grigi in mezzo però che ne so quello che vede la spiritualità è una roba concreta precisa io per esempio che la prendi sul serio e la applichi in qualche modo in una vita che ha un suo binario concreto solido reale non so come cioè reale per quello che noi intendiamo reale che tocchi che pratico via quindi nella tua relazione nel tuo lavoro nel tuo approccio alla vita nel tuo nel modo in cui conduci una conversazione come sono con te eccetera altri che invece vedi sono confusi essenzialmente quindi ma questa cosa tu la puoi trovare sia in quelli che frequentano la parrocchia che seguono il percorso impostato dalla religione cristiana cattolica sia quelli che vanno al tempio buddista a meditare sia quelli che fanno i gruppi di guarigione energetica corsi di reiki eccetera li trovi anche tra le persone che seguono il mio maestro ok interessante questo perché comunque it's your call è la tua il modo in cui tu ti approcci a un percorso che poi ne determina gli esiti gli insegnamenti ci sono ma poi ciò che tu ne fai ciò che tu ne in qualche modo il modo in cui tu concretamente li applichi nella tua vita fa molto la differenza da questo punto di vista il mio maestro nei suoi satsang nelle sue lezioni è verticale no mi ricordo una volta ci sono comunque si trovano sono su youtube una volta dice voi credete di voi credete di essere pi e santi perché accendete un incenso a dio ogni giorno cosa pensate che gliene freghi del vostro incenso no siete poi realmente allineati a ciò in cui credete o cascate la prima volta che vi cada una penna dal tavolo e vi incazzate eccetera cioè che cos'è la spiritualità nella vostra vita è uno spettacolo è una scena dove voi vi vestite eleganti per andare al tempio o per andare in chiesa o perché o perché vi fate belli davanti agli altri io prego tutti i giorni e per me è la cosa più importante parlare con dio ogni giorno poi in realtà sei un caimano nella tua vita di tutti i giorni oppure sei serio in quello che stai facendo sei serio vuol dire che la prendi sul serio vuol dire che ti metti in discussione applichi realmente e sbatti il naso tante volte capisci di aver commesso degli errori capisci di di non aver di aver tanta strada da fare insomma il percorso spirituale è un percorso in salita non è un percorso dove tu arrivi no tipo incontra il tuo maestro ti dà una benedizione boh e io il mio l'ho fatto e finisce lì no sì è un po' come una pasticca no io vedo che in molti fanno tanti corsi di spiritualità e faccio tantra e poi faccio questo sembra quasi una sorta di non lo so girare tutti i medici no per risolvere quel qualcosa che puoi risolvere soltanto è la stessa cosa è la stessa cosa cioè oggi come oggi funziona cioè va tantissimo la tendenza del turismo spirituale nel turismo in senso ok sentiamo un po' che cosa dicono quelli che seguono Yogananda sentiamo un po' quelli che cosa dicono gli Hare Krishna sentiamo un po' quel sacerdote là interessante quello che dice no perché noi comunque nel mondo occidentale viviamo con la cultura del dubbio no per noi il dubbio è la cosa più importante che esista retaggio illuminista in qualche modo fuggiamo specialmente in campo spirituale delle certezze anzi le riteniamo un grosso pericolo e entro certi limiti lo capisco può anche essere è comprensibile perché capisco da dove deriva questo pensiero ma se tu nella tua vita vuoi ottenere un risultato no non apri 250 porte ne apri una e ci vai in fondo esatto è proprio quello lì entrarci mentre invece noi rimaniamo sempre appunto da occidentali post illuministi molto alla ricerca di quelle istruzioni logiche no di quel avere dall'esterno come si fa quella cosa lì io vedo tante persone a cercare un come si fa ulteriore e non entrare mai veramente anche nella sofferenza che dicevi prima sì sì per esempio una cosa che beh adesso non finisco per aprire un altro finisco il concetto che stavo articolando prima cioè se tu vuoi che ne so hai un problema di salute in qualche tipo no ritieni che un approccio che sia quello medico occidentale che sia l'agopuntura che sia la ayurveda non lo so sia quello che fa per te e ci credi per davvero vacci dentro no chi di voi ha letto Tarzani un altro giro di giostra no lo stavo dicendo essenzialmente parla esattamente di questo cioè lui bellissimo quella la parte anche medica sì perché lui proprio dice quella roba che stai dicendo tu adesso io sono comunque un fiorentino lui era toscano io comunque ho girato tutti i guru di tutto l'India ma alla fine io al fine non mi fidavo di nessuno cioè rimaneva sempre una particella di me che diceva per me mi sta perculando e questa è stata la mia condanna per lui diceva questa è la mia condanna non riesco ad abbandonarmi a nessun guru non ha avuto la fortuna che hai avuto tu perché probabilmente la tua era è una fortuna è una fortuna infatti mentre ti ascoltavo dicevo che culo è proprio una roba totalizzante fortuna la chiami fortuna se non hai fede se hai fede la chiami grazia guarda cosa ho scritto qua l'ultima parola che ho appena scritto fede fede perché è un discorso di fede il tuo cioè che è un'altra parola la sputtanata perdonami fammi solo finire questo discorso qua che se tu immagina di dover trovare l'acqua per portare l'acqua a casa tua nel giardino hai due possibilità inizi a scavare dopo dieci metri non trovi l'acqua la scavi da un'altra parte la scavi da un'altra finisci che nella tua vita non trovi niente non concludi niente hai fatto quattrocento buchi inutili no? se tu ne avessi fatto uno di cento metri trovavi l'acqua ora ci sta che ci sia una fase di ricerca nella vita no? è normale siamo tutti essenzialmente ricercatori anche chi crede di non esserlo siamo tutti ricercatori in quella che è spiritualità però una volta che tu vedi che ne so provi una cosa io prima di incontrare il mio maestro effetti ero già un po' in questo mood avevo avuto a che fare con realtà diverse mi avevano dato qualcosa ma non ancora del tutto quest'altro si bello fantastico all'inizio pensi poi ancora un po' tic tac 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 nel momento in cui io vivo quell'esperienza lì che ti ho raccontato con il mio maestro questo è il pozzo che devo scavare e lo devo scavare con tutte le forze che ho perché ho visto che è lì che c'è ciò che io voglio è stata la differenza sostanziale fra questo pozzo e gli altri è l'esperienza 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 la profondità dell'esperienza non hai avuto anche come una sorta di sensazione di aver già vissuto in altri momenti della tua esistenza o altri spazi altre vite altre mesi l'hai detto tu chiamiamo le cose con loro nome di nuovo l'hai mai l'hai avuta anche questa sorta di eco perché a me è capitato sì sì certo assolutamente cioè quella è una misura io personalmente sono convinto di questo no in generale per quanto mi riguarda sono anche convinto che non sia la prima volta che ci incontriamo io e te da quello che sto vedendo in questa in questa chiacchierata no quello che sto vedendo nei tuoi occhi mentre mi ascolti insomma così come in tante altre persone che ho avuto modo di incontrare in vita mia incluso il mio maestro io sono sicuro che non è la prima volta che ho l'incontro quello è un metro che ho imparato ad avere cioè nel senso quando sento quel sapore lì quando assaggio un vino questo è il sapore di vite precedenti non so come dire ti faccio un altro esempio sul mondo del viaggio che è il mio come dire è un po' quello che mi ha fatto sbocciare anche come individuo come persona viaggiato in tanti posti per esempio i miei genitori viaggiavano tantissimo quando ero piccolo viaggiavano proprio tanto e per me era la normalità che io andavo a scuola al liceo tot ogni tot mesi mi dicevano ciao Stefano ti lascio due settimane da solo perché andiamo in Thailandia perché andiamo in Kenya in India visto che ci andavano perché andiamo sì mio padre andiamo anche in India certo andiamo anche e io ogni volta ascoltavo buon viaggio figo due settimane da solo facciamo casino facciamo le feste con gli amici e un giorno mi dicono andiamo in Islanda io non la era pre social non mi sapevo neanche dove fosse l'Islanda a momenti però ho reagito dove andate immaginiamo in Islanda e io voglio venire anche io in Islanda cioè questa era la mia la voce la vocina dentro che mi diceva fatti portare immaginate tipo inside out tipo ti prego fatti portare ti prego però no loro andavano per conto loro con due amici e io dovevo fare la mia scuola cioè non era nell'orizzonte di andare in Islanda poi in Islanda ci andai dopo laureato tipo dieci anni dopo quell'episodio lì e ricordo che appena atterrato chi di voi è mai stato in Islanda sa che in Islanda atterri in un campo nero di lava dove non c'è niente intorno non è che vedi qualcosa di bello vedi il vuoto pneumatico eppure io me lo ricordo come se fosse ieri che nel momento in cui poggio il piede per terra dico sono tornato a casa perché questo posto mi sembra casa e poi col tempo questa cosa si è sviluppata in decine decine di viaggi di parte del mio lavoro e sono appena tornato dall'Islanda come ti ho detto prima ed è sempre emozionante uguale ed è sempre quella sensazione di familiarità di essere a casa che poi scoprì in realtà in tutti i luoghi freddi in generale in tutti i luoghi dove in qualche modo si può vedere l'aurora boreale ecco quella roba lì molto freddi quindi artici molto freddi quindi questa roba qua per dire chi è che me l'ha messa dentro sta roba da dove mi deriva questa sensazione perché ce l'ho io e tu no perché il mio miglior amico mi dice tu sei un pazzo ma vai al mare ma tu sei completamente incoglionito o la tua ex fidanzata che magari non sarebbe tra le altre cose no lei venne con me in Islanda fu un bellissimo viaggio tra l'altro però lei piacevano le cose fredde tra l'altro in generale fu proprio il tema che io partivo e andavo stavo lontano da casa che creavo problemi ma quello è un altro discorso ma invece adesso riesci no te lo chiedo perché certo come si costruisce un rapporto di coppia che prevede che uno a un certo punto va via un sacco di giorni e come si fa a mantenerlo saldo entriamo nella parte più Maria De Filippi no però aspetta avevi aperto un discorso che era importante da finire prima quello della fede non ricordo com'era possiamo passare anche all'altro però forse perché io parlavo della storia del buco poi si è parlato delle sensazioni allora il tema della fede per me è importante nel senso che guarda io posso tornarci anche dopo se te lo ricordi basta che no 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 ma vabbè rincarnazione stiamo parlando di quello sì più o meno dell'idea che può essere c'è il tema allora tu fai documentari un mio regista preferito dei documentari si chiama Werner Herzog che probabilmente conoscerai anche tu e ha scritto anche lui pochi libri perché comunque ci ha avuto da fare nella vita e mi ha colpito tantissimo in uno dei suoi libri che si chiama oddio santo Herzog con Herzog quindi un'intervista che hanno fatto a lui dove lui racconta la sua vita dove porca troia ogni capitolo c'è la parola fede Herzog è tutto fuorché una persona da cui ti aspetteresti un approccio così fideistico no però la maniera in cui ne parla lui di fede è figa cioè per me fede è sempre stata una parola che tu associ è un contesto sfigata cioè tipo siccome io non so fare bene le cose mi devo affidare a qualcuno mi affido a te dai di quelli che non hanno gli strumenti che quindi grazie alla fede vada avanti e lui dice no io ho capito che l'ingrediente numero uno per fare quello che ho fatto e Herzog ha fatto dei documentari pazzeschi senza soldi incredibili eccetera è la fede cioè il fatto di sentire dentro di te che non sei solo sì cioè se tu fai 100 metri ti guardi indietro sei vivo poi fanno gli altri 200 metri ti guardi indietro vai avanti e lo capisci cioè è una sensazione inconscia di armonia con quello che stai facendo che è indicibile a parole ma che senza di questa non puoi portare a casa nessun risultato zero infatti nella tua vita vedo tanto l'imprinting della fede perché tu vai se tu mi scrivi una lettera di quello che appena ha detto Herzog io te lo firmo col sangue esatto ma perché non perché ti fidi vada bene non perché ci penso non perché come dire lo come dire te la racconti la vedi hai letto tante cose eccetera no no perché io l'ho visto con i miei occhi questa cosa non so se ho capito non so se ho reso l'idea guardando il tuo guru non solamente guardando anche vivendo quello che ho vissuto con lui in sette anni no perché cosa hai visto esattamente ovviamente sarebbe troppo lungo raccontarti tutto quanto sostanzialmente quello che ho vissuto con lui mi auguro che avremo poi occasione di parlarne magari con però è stato un continuo cioè da che da che l'ho incontrato ho iniziato a seguire la mia vita si è trasformata in un miracolo sostanzialmente incluso quello di cui stavamo parlando prima mia moglie cioè il fatto di avere una relazione totalmente appagante perfettamente allineata nonostante la vita che io faccio ci torniamo su quello però senza senza una reale presenza di Dio nella tua vita quale che sia la forma che sia il crocifisso che abbiamo nelle nostre chiese va benissimo se uno è realmente allineato trovi tutto lì non c'è bisogno di andare insomma in India in Giappone in Africa quello che è che sia la forma di un umano sono i devoti di un umano ok però quando tu trovi la tua relazione personale con Dio allora hai trovato il senso della tua esistenza non c'è nient'altro nient'altro lo sottorineo nella vita che abbia importanza se non la tua personale relazione con Dio perché l'unica cosa che non ha un limite tutto il resto ha un limite tutto quanto ha un inizio e una fine pertanto se tu investi la tua felicità investimenti non li capisci bene se tu investi in un qualcosa che è limitato otterrai qualcosa di limitato se investi in qualcosa in qualcosa che non ha limiti ottieni qualcosa che non ha limiti e che non ha condizioni che non dipende dal fatto che tu sia sposato che tu faccia un buon lavoro che tu guadagni tanti soldi che tu guadagni pochi soldi che tu viva in Russia in Italia in Giamaica o altrove tu dove sei come sei sei sempre nel posto giusto è quello che vedo nei tuoi video cioè io con tutto rispetto per la Russia io tra l'altro non posso dirlo però anche autobiograficamente ultimamente ho qualche contatto con quel paese ma tu l'hai vissuta con un entusiasmo sta roba che io dico ma questo sta in Italia ma che cazzo va a fare a Mosca fa freddo sarà anche bella come la dipingi tu che ci sono un sacco pieno di gnocca eccetera però inutile perché ci sono andato da sposato questo è il più grosso errore della mia vita però caspita e non è un caso che i tuoi video sulla Russia abbiano così tanti risultati in termini di metriche banali di youtube perché traspare un entusiasmo per qualcosa però anche lì non lo hai progettato che cos'è quell'entusiasmo eh che cos'è da dove arrivo perché tu vai lì e sembra tra l'altro lo diciamo velocemente se no non è che tutti sanno la tua vita cioè tu ti sei sposato con una celebrity russa che è una cantante che ha vinto un contest tipo di sì mia moglie essenzialmente in Russia è stata adesso è un po' fuori dal jet set però essenzialmente è stata una pop star esatto lo è ancora per certi versi tipo un E.L.O.D. russa diciamo più una una Victoria Beckham forse nel senso che cioè lei divenne famosa con una girl band potremmo chiamarle le Spice Girl di Russia ah non lo sapevo ho scelto Victoria Beckham perché la somiglia poteva essere Gary Halliwell per dire però che i capelli neri mi voglio per cui di quella parentesi lì non c'è nessun russo che non conosca le sue canzoni sostanzialmente non c'è nessun ex sovietico cioè tutti i paesi russofoni che non conoscono le sue canzoni poi intrapresa la carriera pop solista proprio come le Spice Girl e poi adesso ha cambiato completamente genere anche lei diciamo è diventata molto più verticale su quello che è la spiritualità anche all'interno della musica lei questo progetto di musica etnica dove mette in musica canzoni e tradizioni della sua terra d'origine il nord del Caucaso e mantra o preghiere prese dalle tradizioni spirituali di tutto il mondo ma preferenzialmente nella tradizione indiana che è quella a cui siamo tutte e due più vicini più legati ecco cioè nel senso arrivi ed è una favola come la racconti tu che finisci vai in televisione e riesci a apprezzare un film obiettivamente un film cioè quello che è successo c'è una roba assurda ma non l'hai cioè non è che tu ecco perché è anche un'altra cosa che va di modo nel mondo della new age della spiritualità è immagina il tuo futuro visualizza fai in modo di attrarre quello che tu vuoi non è quella la fede secondo me perché si confonde spesso nel mondo della new age le due cose vanno di pari passo in realtà e lo dice molto bene abbiamo parlato della Bhagavad Gita prima nel capitolo 8 Krishna dice si ottiene ciò su cui focalizzi la tua mente il concetto è quello poi articolato in maniera legata al punto di si parla nel capitolo 8 di quel libro si parla del momento della morte essenzialmente per cui se tu investi tutta la tua vita a pensare che ne so ai semi dei andrai dai semi dei poi ti rincarnerai se investi pregare per gli antenati andrai dagli antenati ma poi tornerai qua no se tu investi tutta la tua vita in Dio otterrai Dio e verrai liberato questo è un po' il senso di quella scrittura in quel senso lì però il senso più profondo è se tu ciò che tu su cui tu focalizzi la tua mente lo ottieni ed è vero nel senso il positivismo motivazionale che va di moda in occidente oggi visualizza la tua vision eccetera tu essenzialmente stai materializzando una realtà con il potere della tua mente e funziona cioè se io mi metto ogni mattina a visualizzare il fatto che avrò una casa bella che sarò ricco che avrò tot cose facilmente nel giro di qualche anno quella roba poi finisce per prendere una forma nella mia vita perché funziona così il punto è che cosa metti nella tua visione su che cosa è che investi investi in qualcosa che ha un limite o che non ha un limite una casa ha un limite i soldi hanno un limite persino una relazione ha un limite cioè tu dici ok io vorrei tanto avere tanti soldi poi ti accorgi che hai 2 milioni di euro 30 milioni di euro e sei semplicemente il più ricco degli sfigati finisci per poi diventare il più ricco del cimitero citando un mio amico lo dice sempre questa cosa che ti resta di quei soldi là tu conoscerai tante persone immagino che hanno fatto tanti soldi per via del tuo lavoro no quante persone sono felici per via dei soldi che hanno fatto esclusivamente per via di quello chiaro che con i soldi si fanno tante cose in più sì la cosa interessante è che Guadalberto Bormolini che è un monaco che è venuto anche qua che probabilmente è la persona con cui ha avuto un'esperienza più simile aspetta che hai avuto tu rispetto al tuo guru è venuto ospite a un nostro evento sempre questo evento di Venezia e lui è venuto dicendo ma io sono qua per imparare da voi voi avete un desiderio di ricchezza noi siamo formatori finanziari quindi è normale che la gente ci conosce viene perché vuole guadagnare di più vuole avere un'azienda più performante e lui dice ma io sono io che voglio imparare da voi avete un desiderio di grandezza un desiderio di crescita un desiderio di abbondanza certo e l'importante è che questo desiderio non sia limitato quello che hai detto tu adesso pretendete il più possibile pretendete tutto tutto resistente e quando lo pretenderete capirete che che non è quello che stavate cercando che non è quello che state cercando ma che c'è qualcosa di unico che è senza limiti che poi non è che l'aspetto materiale non deve essere demonizzato no esatto molto spesso anche nella nostra cultura tendiamo a dire tendiamo come dire a vedere gli aspetti materiali della vita come un qualcosa di sporco poi in Italia noi con i soldi abbiamo proprio questa cosa che sappiamo qualcosa ti devi vergognare è che è una sola per noi che non ci condivide nessuno sui social e nessuno commenta ma tutti poi comprano i corsi però l'importante è quello però il punto è che le cose vanno capite per quello che sono i soldi sono uno strumento fondamentale non si può vivere senza cioè può essere in certi casi ma soprattutto in Russia se sei un uomo devi offrire tutta la tua donna fondamentale che ho visto nei tuoi video faccio un piccolo parentesi quando ho visto il tuo video e ho sentito quello che hai detto cioè che le donne russe vogliono che gli offri tutto gli devi dare i fiori eccetera è tutto vero è l'opposto di quello che succede qui a Milano ho leggevo un articolo qualche tempo fa come insomma su Vice come a Torino dite broccolare lo dite ancora come baccagliare baccagliare come baccagliare una ragazza non gli devi dire più perché è una roba vintage veramente fuori modo cosa ti offro qualcosa da bere no devi dire cosa mi offri da bere tu uomo alla donna è l'unico modo per fare colpo in Russia non funzionano così no in Russia tu dici a una donna cosa mi offri da bere va già bene che non ti mena esatto se sei fortunato ti dice no grazie ho altro da fare affascinante combinazione io ho fatto due mesi fa con un mio amico ci siamo divertiti noi siamo andati andiamo in piazza rossa così becchiamo le ragazze per strada ben vista gli chiediamo che cosa deve fare un uomo per avere la tua attenzione diciamo le risposte sono lì è un'altra cultura hanno semplicemente un modo diverso di vedere le cose che a me fa sorridere perché poi ho dovuto impararlo strada facendo io crescendo così con con l'impostazione europea più che occidentale italiana soprattutto avevo una certa visione mia moglie ha fatto capire molto in fretta che la visione doveva essere diversa ma questo è una cosa che chiunque sta con una donna russa presto o tardi finisce per comprendere in qualche modo che poi in realtà è una cosa molto bella io trovo perché essenzialmente esiste solo nel contesto della relazione di coppia proprio fuori diverso poi anche lì vabbè non apriamo questioni culturali sociologiche sul rapporto uomo-donna in Russia perché ci infoniamo però essenzialmente noi per tornare al punto che stavamo dicendo noi occidentali soprattutto siamo proprio i più bravi in questo siamo super talentuosi nel confondere il mezzo con il fine idem nella spiritualità nella spiritualità molti si concentrano come dicevi tu prima sulla tecnica yoga sul mantra che leggi ma ce l'hai un mantra un po' più speciale perché questo qua che sto reggendo sull'ottenere punti fidati punti della carta per poi ritirare il premio alla fine è collezionismo essenzialmente è bigiotteria spirituale la chiama un mio amico esattamente bigiotteria bravissima confondiamo il mezzo con il fine noi riteniamo che saremo felici quando avremo una casa grande saremo felici quando avremo tot soldi poi ti accorgi che quando hai una casa grande vuoi dell'altro ed essenzialmente sei continuamente schiavo di che cosa della tua mente in qualche modo che tende sempre il suo scopo sono come dei cavalli che tirano un carro ok i casi sono due questo è l'esempio di Gurdjieff usava questa mente della carrozza anche Platone sì sì o sei tu che guidi la carrozza o sono i cavalli che guidano la carrozza terzim non datur quindi essenzialmente insomma torniamo al discorso della fede cioè un percorso spirituale serve essenzialmente a farti comprendere questa realtà non confondere il mezzo con il fine però delle volte sai che ad esempio nel mio caso io ammetto di aver iniziato a fare meditazione perché volevo essere più creativo volevo fare l'artista è il mio artista preferito e va benissimo e cazzo poi è incredibile come poi ti accorgi che se invece la fai seriamente se il tuo percorso è serio ti dimentichi qual era il mezzo originario capisci la differenza tra il mezzo e l'obiettivo ma il punto è questo che se io voglio fare meditazione per ottenere questo lo ottieni io voglio fare questo per ottenere questo lo ottieni ma è una scatola che finisce lì una volta ottenuto ciò che hai desiderato passi oltre il punto è c'è qualcosa che non è una scatola nella vita e che mi contiene in realtà tutto quanto il resto dove essenzialmente tutto quanto ha una sua coerenza interna la mia risposta personale è sì no per cui è il divino vanno bene le cose limitate servono le cose limitate per fare dei passi perché comunque creano un'interazione permettono a certe cose dentro di noi di accadere ma in ultima analisi ciò che conta è un qualcosa che non ha limiti facciamo un esercizio mentale scomodo immagina che io e te stasera ci troviamo sul letto di morte ok sappiamo che di lì a un'ora ce ne andiamo cosa ha importanza in quel momento lì e ci sono c'è scritto anche un libro su questo vorrei averlo fatto è questa fermiera che accompagnava le persone alla morte e trova sostanzialmente un pattern di tre cose vorrei aver avuto più tempo per vivere vicino alle persone che sono i miei cari vorrei aver voluto essere più determinata nel fare quello che veramente mi piaceva fare eccetera eccetera però questo non c'è mai vorrei aver avuto una casa più grande se tu la la sintetizzi cut corners vai all'osso di questo concetto io avrei voluto essere di più me stesso avrei voluto fare quello in cui credevo avrei voluto spendere di più tempo con le persone che amavo invece di farmi distrarre da altro ed essenzialmente essere più se stessi essere essenzialmente come Dio ti ha fatto come sei fatto tu cioè le cose che rendono te unico tu hai questo talento per insomma la comprensione dell'universo finanziario che magari io non ho avrei un sacco di cose da imparare da te e viceversa magari tu hai piacere di sentire una storia raccontata da me e tutto quest'altro nel momento in cui noi cerchiamo in tutti i modi di vivere la vita che gli altri pensano per noi che in qualche modo cercano di costruire perché la gente proietta su di te la sua idea di felicità vuole che tu faccia ciò che loro vorrebbero fare per loro stessi essenzialmente e questa interazione poi che parte dalle famiglie si prosegue con gli amici eccetera in tutto un un substrato culturale societario in cui cresciamo che essenzialmente ti insegna a sopravvivere non ti insegna a vivere ti insegna ad arrivare vivo al momento in cui morirai vivo inteso biologicamente vivo non ti interessa a vivere pienamente non ti insegna a vivere pienamente ogni singolo giorno della tua vita e come fai a vivere pienamente ogni singolo giorno della tua vita l'abbiamo detto prima dicevo che la mia vita è il mio lavoro il mio lavoro è la mia vita non c'è separazione tra le due cose non ho orario di ufficio quando faccio ciò per cui sono nato perché l'orario di ufficio è iniziato quando sono nato e finirà quando me ne andrò quello è il mio orario di ufficio ok ci va un po' per capirlo delle volte uno deve poi tirarlo fuori in qualche modo e tu pensi che questa cosa che stai dicendo sia alla fine il segreto della mole enorme di engagement che c'è sul tuo canale perché tu hai veramente migliaia di commenti quando fai un video cioè le persone beh dipende naturalmente dal video che consideriamo però cioè non so come dire perché è un po' il sacro graal che tutti cercano l'engagement anche qua sembra che stia facendo il sacro profano no no però è vero però è sì essere se stesso perché è una lingua ci sono tanti corsi che ti spiegano come essere più famoso sui social come avere più risultati con delle tecniche fredde anche a volte di seduzione eccetera quando invece magari è una connessione ma scusa ma tu li conosci li conoscerai sicuramente dei creator eccetera che fanno esattamente quello quello che sto dicendo adesso sì sì è certo che cosa ti danno quando vedi i loro contenuti e freddezza falsità lo vedi quando è una cosa costruita lo vedi lontano un chilometro e la genuinità l'autenticità però prima nei confronti di te nei confronti di te stessi andiamo un po' come dire fascia non protetta quando fai l'amore con la tua fidanzata no ok con tua moglie una donna che ami cosa fai sei lì che sei in quel momento lì oppure pensi a tutto quello che ti ha detto quel tuo amico quella tra te dunque faccio prima questo questo poi faccio questo poi fai un compitino no e tu pensi che una donna non se ne accorga di quello a voglia se se ne accorge no io ho tante amiche no ci si confide certe volte no ma essenzialmente avere un rapporto con i propri follower avere una comunicazione pubblica è un modo di fare l'amore tra virgoletto ok io quando faccio i miei contenuti sto avendo una relazione con le persone che mi ascoltano per questo che non mi scrivo mai niente io vado a braccio e la risposta alla tua domanda è sì il sacro grado del segreto del mio engagement per quello che è è essenzialmente che io sono io e non sto fingendo di essere una persona che non sono e le persone timide cioè tipo ho visto anche alcuni dei tuoi video dove ci sono magari i tuoi corsisti che vengono in giro che hanno sempre vergogna di stare davanti alla telecamera vabbè quello è caratteristiche individuali io probabilmente tu non sei mai stato timido ma per certe cose sì che poi in realtà paradossalmente io nonostante abbia questa verve comunicativa in realtà sono una persona tendenzialmente riservata io al di fuori dei video faccio una vita piuttosto solitaria e remitica è un po' il mio ideale di vita stare chiuso in una stanza fare le cose no ma allo stesso tempo quando sono in società quando sono e riesco a essere trascinante trascinante in qualche modo la timidezza viene a capire un pochettino da dove derivano delle volte è il modo in cui tu sei fatto perché non è che tutti sono fatti per stare davanti a una telecamera e non c'è niente di male in tutto questo sono persone che non vogliono appare sono così sono un po' preferiscono fare altro e sono felicissime si fa un po' parte dell'ecosistema se tutti stessero davanti alla telecamera non ci sarebbe pubblico ma è normale un po' quel discorso che se fossimo tutti i medici ci sono mille modi il giorno d'oggi per essere presenti raccontare storie c'è un altro tipo di timidezza in realtà che è quella a cui tutti noi dovremmo stare attenti perché in realtà sono io stesso da avercela certe volte perlomeno ce l'ho avuta in passato spesso ed è quella timidezza che in realtà è una forma di vanità cioè quella timidezza nel senso che tu sai in qualche modo di avere un talento di avere un dono ma non lo vuoi non lo vuoi come dire esporre un po' per paura di essere giudicato un po' perché eccetera eccetera ma in qualche modo perché il tenerlo ok ti tira su non so se mi spiego cioè ti illude no in qualche modo un po' tirarsela no un po' è un po' tirarsela ecco ce l'ho ma non te la do cioè ma non te lo do se uno analizza profondamente questa cosa uno a volte fa fatica a comprenderlo questo è un concetto che molti sentiranno diranno what the hell ma in realtà poi se tu la guardi è così perché l'avere il coraggio di seguire il proprio talento la propria unicità la propria vocazione chiamalo cioè il motivo per cui tu sei nato nel momento in cui lo percepisci e lo trovi e ci va un bel coraggio e soprattutto ci va una dose di umiltà non comune vuol dire che devi essere disposto anche a pigliarti un sacco di legnate lungo la strada e io personalmente ne presi a suo tempo inclusa poi anche l'aspetto relazionale della mia vita io oggi sono felicemente sposato ho una relazione che era più appagante che si possa immaginare dal punto di vista anche proprio spirituale ma per arrivarci ho dovuto combinare una serie di errori e dove sono nati questi miei errori adesso non è che voglio fare la storia della mia delle mie relazioni perché sarebbe patetico però in sintesi tutto quanto derivava dal fatto che io non ero in grado di accettare chi ero pure io no? che non ero in grado di ammettere a me stesso che ero bravo a fare qualcosa e quindi nascondendolo mi attiravo spontaneamente delle situazioni in cui veniva richiesta la parte più mediocre di me perché questo era quello che io su cui io investivo e se tu investi 5 euro su apple non è che puoi pensare un ritorno di 2 miliardi è vero o no? interessante bello bello a meno che tu non investa nell'89 poi quello è un altro discorso con il bitcoin con il bitcoin naturalmente sì anche perché se non ti esprimi veramente mantieni quel potenziale che in teoria è infinito però quando lo metti poi in pratica certo allora fai conti anche con i tuoi limiti perché ogni potenziale poi ha il suo spazio e peraltro l'aspetto relazionale cioè le donne in qualche modo il fidanzamento quello che nella mia vita è stato il banco di prova più duro per quel che mi riguarda perché nel momento in cui io mi sono trovato ad avere questa situazione appunto nel momento in cui ho incontrato il mio maestro eccetera fu un momento traumatico dove essenzialmente c'era questa situazione legata ai viaggi che mi creò un serio problema personale ma io avevo capito che quella roba lì era troppo importante per me che io ci dovevo investire seriamente quindi dedicare la mia vita al mondo dei viaggi la fotografia eccetera nel momento in cui lo capisco io sono disposto a tutto per quello ok al punto che in quel momento lì dei miei amici consapevoli mi vedevano Stefano bellissima questa cosa che proverai a fare il viaggiatore così te lo auguro spero tu ci riesca però lo sai no cioè lo sai che ma dove la trovi una donna che sia in grado di accettare una persona che fa uno stile di vita del genere la stessa domanda che mi hai fatto tu prima sostanzialmente cioè come puoi sperare lo sai cioè finisci rimarai solo a vita no questo era il ricatto morale che veniva dai miei migliori amici no e io gli faccio sì lo so se questo è il prezzo che io devo pagare per essere me stesso lo pago perché se io non sono me stesso io mi ammalo se sono fortunato mi ammalo spiritualmente cioè divento un vecchio frustrato rompipalle se sono sfortunato mi ammalo fisicamente perché poi certe cose prendono anche quella forma là a un certo punto no e a quel punto mi sono detto boh io con le donne ho chiuso io credevo realmente che non non sarebbe stato possibile perché nella mia testa nessuna cioè tutte le donne mediamente sono attratte dal viaggiatore no però accidenti figo ti ozzo viaggi che avventuriero seducente avventuriero usciamo con l'avventuriero e poi l'avventuriero va a farsi le avventure e ti incazzi perché non sta con te ma dove no mi è successa realmente questa cosa no ti ho chiesto uscivo con una ragazza tanti tempo fa uscivo con una ragazza e mi fa ma dai sei andato a caponordo in macchina storia bellissima che coraggio mamma mia wow mamma mia ma raccontami ancora di quel viaggio che hai vissuto no ta 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 poi eccetera senti ma quest'estate cosa fai ah quest'estate volevo andare a Pechino in treno da Torino e mi faccio un mese da sola ok benissimo come questa roba qua no era parte della mia vita perché era parte della mia vita perché non ero io ad averla capita nel momento in cui l'ho capito ok basta fine per me non è proprio possibile e poi che succede ovviamente di nuovo avevo già incontrato il mio maestro da lì in avanti qualunque cosa è avvenuta grazie a questa frequentazione incluso l'incontro con mia moglie incontro una donna mia moglie che da piccola tenetevi forte sognava di sposare un marinaio sognava di proprio si immaginava quel momento lì dove il suo amato si imbarcava per un lungo viaggio in porto e lo abbracciava gli dava il bacio e poi lui tornava ed erano felici eccetera è esattamente la vita che facciamo io e mia moglie Dio li fa e poi li accoppia dicono no io sono una manifestazione precisa di questa cosa qua e ma quando è perché io non l'ho incontrata prima mia moglie perché io prima non ero disposto ad accettare chi ero e mi atteggiavo a essere ciò che ciò che volevo che gli altri fossero sostanzialmente intenzionalmente tenendo un profilo basso beh anche per la paura di rimanere da solo probabilmente certo sempre la paura dai il blocco desiderio di essere accettato sì sì ma intendiamoci desiderio di essere accettato da persone quando tu hai detto io ho rinunciato a un certo punto all'idea di avere una compagna l'hai trovata questo accade spesso no? bisogna fare spazio per attirare le cose nuove bravissima è una morte che sì bisogna morire proprio esatto è una morte parziale che ti permette di accedere alla nuova vita però tutti quanti abbiamo paura di queste morti si muore tante volte nel corso di una vita si muore tante volte poi tu tantissime cambi nazioni cambi lavori quando mi dicono donna mia tu Stefano c'hai 35 anni che vita hai avuto io ho tre vite almeno ho vissuto ma infatti sai che guardando i tuoi video ci sono tre te cioè proprio è chiarissimo vedere le fasi quali sono? no questi sono cinque cinque che all'inizio tipo nel viaggio a Torino a Pechino eri più maramaldo più anche giocoso più cazzaro cazzaro sì sì poi c'è stata la fase diciamo in cui sei almeno dai video di viaggio trasmetti una sorta di sei placido sei calmo ecco c'è proprio questo passaggio vedi come a un certo punto magari sei meno emozionante meno anche scherzoso perché avevi anche un talento nel far ridere far la battuta no? però vedi che non c'è più quella spinta a dover a fare lo schermo a tutti i costi a dover piacere c'è sempre la voglia di scherzare quella che mi rimane sì però non è quella pressione che devo devo perché sennò non piaccio quella del comico io l'ho conosciuto da amici comici che anche nel tempo libero continuano a fare le battute all'infinito esatto ma c'è un tempo per ogni cosa c'è il tempo per tipo oggi non ci hai fatto ridere tanto no di una barzelletta ci hai stirati però dai facciai ridere stai intanto hai riso esatto è colpa tua sei tu che è andato sulle cose serie se vuoi sulle cose sceme stiamo scemi sì alla fine esatto noi non riusciamo mai ti va se accendo un incenso un incenso ten minutes aroma made in japan sì 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 vai col ten minutes aroma ci piace un sacco lo facciamo solo per gli ospiti speciali questo no a parte di scherzi no mi è venuta voglia è al gusto di cyprus japanese cyprus Giovanni va in bagno mettiamola qua vicino a Danuman guarda non me l'aspettavo che devo dire che facendo questo podcast ci sono varie sfumature diversi approcci che ho con gli ospiti abbiamo con gli ospiti nel tuo caso non riesco a avere il tempo neanche di leggere gli appunti e all'inizio tentavo di resistere a questa tua voglia buono vero cipresso giapponese l'incenso è la cosa più bella che esiste io non posso vivere senza incenso con il codice sconto Tiozodeci trovate una fornettura di incensi brandizzati questi sono buonissimi tra l'altro li ho presi qui a Milano in un posto di roba giapponese e invece adesso cioè mi sono lasciato andare e non so dove ci porterà ancora per qualche minuto poi tutti quanti noi prenderemo le nostre strade le tue strade prossime a proposito tu ecco tu hai come approcci il futuro a quanti mesi pianifichi il tuo lavoro perché voi siete una vanguardia voi che fate questo non lavoro cioè siete la prima generazione che si permette di vivere di questa cosa certo non avete come i dj negli anni 80 non c'erano i dj prima degli anni 80 voi siete i dj di adesso chiaro da un lato è figo perché è come essere esploratori dall'altro c'è un po' di inquietudine di non sapere un minimo te lo dico perché tipo domani abbiamo ospite una ragazza che gli hanno cancellato l'account instagram dove aveva più di 10.000 iscritti e c'è questa qua è morta da un giorno all'altro questa roba può succedere anche a me infatti ormai li hanno cancellato tra l'altro e non lo sa ancora pazzesco adesso ne ha 2000 poverino deve ricrescere comunque siete delle persone che stanno alla frontiera e io questa cosa a volte ho l'ansia per voi per dire cazzo sti ragazzi sti persone qua non hanno non c'è uno storico non si sa magari cambia l'algoritmo cambia tutto ben inciso anche se tu avessi uno storico non cambierebbe sono un sacco di universieri che smettono di esistere de botto così senza senso vero cfr pandemia covid 2019 sì sì no? sono un sacco di lavori che hanno smesso di no ma infatti lo dico sempre anche nei miei corsi mia mamma ha sempre desiderato che io facessi ragioneria la bocconia e lavorare in banca il lavoro più rischioso che c'è oggi è lavorare in banca chiaro perché lavorare in banca essere umano tu sì 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 non serve più a niente quando prenderanno piede le cripto esatto le banche spariranno e quindi è incredibile quindi sì effettivamente è toccato tasto dolente no no è toccato tasto dolente no no anzi no no sulle cripto guarda qua abbiamo una persona che si sta facendo il prossimo corso no no siamo sul pezzo io sono ci sono lo seguo molto da vicino non ho mai parlato perché non ritengo di avere qualcosa da comunicare ma tutti i content creators sono dentro anche nel cripto da amico sono i volponi salutiamo Mick ciao Mick grande è venuto qua anche lui ma tutti hanno Giuseppe di va a dire che era la live che abbiamo fatto con Mick Progetto Happiness lo conosci Giuseppe non di persone in realtà è venuto qua anche lui anche lui investe in cripto sì si ammoscia con il microfono ce l'avevo io una volta l'abbiamo dato agli occhi però sta così sta così sì sì vabbè adesso tra l'altro io ovviamente essendo anche un artista devo seguirlo per forza perché il mondo della criptoarte sta sviluppando a razzo no era un buon equilibrio un buon equilibrio ok no beh ma sì è sostanzialmente adesso piccolo spoiler però sto preparando l'uscita dai miei primi NFT per una mostra di di arte digitale con cui sto lavorando ti parla di fotografie essenzialmente vediamo un po' dove ci porterà questa avventura però al netto della parte NF Tara da qualche anno seguo anche il discorso ma finanziario un po' più che altro per comprenderlo poiché c'è con la vocina dentro che mi dice che essenzialmente con questa roba ci dobbiamo avere a che fare per un po' quindi prima inizia a capirla meglio è ma invece nel tuo lavoro di content creator la parte proprio concreta di pianificazione sì tornavamo alla pianificazione fai tutto tu da solo o non hai un manager non da solo completamente solo e ti interfacci tu direttamente con i partner con i co sì oddio faccio parte di di un paio di agenzie che sporadicamente se ne escono con qualche proposta lavorativa ma parliamo di mosche bianche c'è roba che probabilmente boh cioè mi ci pago un biglietto aereo intanto nulla di che è insignificante e il tuo stream of incomes cioè i tuoi sordi arrivano da i sordi molto lo dico però mi devi far rispondere all'altra domanda sennò poi te lamenti che gli ospiti devagano è vero o no no essenzialmente tu mi hai chiesto della pianificazione come vedi l'orizzonte del tuo futuro dal punto di vista lavorativo suppongo giusto essenzialmente io non ho mai visto al di là di 12 mesi prima della pandemia vedevo al di là di 12 mesi cioè normalmente adesso è aprile io nel 2019 in questo momento io pianificavo tutti i viaggi di autunno inverno iniziavo a pensare dell'autunno inverno e iniziavo a ragionare su quello che sarebbe potuto essere poi dopo un orizzonte di un anno viaggi intendi che tu organizzi dei viaggi organizzo viaggi workshop fotografici in giro per il mondo dove le persone si possono iscrivere e fare parte dell'esperienza quanto costa un viaggio con te dipende dalla destinazione naturalmente io ho sempre lavorato su non sono a buon mercato lo hai visto complimenti questo è tirato non sono a buon mercato nel senso che oggi va molto in low cost ma low cost vuol dire low servizio abbiamo parlato l'ultima puntata è semplicemente io non sono neanche nella categoria luxury assolutamente nel mercato di viaggi fotografici in me sono forse tra i più economici però nel momento in cui tu io ho la pretesa se vogliamo di fare tutto il possibile perché chi viene in viaggio come me abbia anche un buon servizio che beve un'esperienza tutto tondo che quindi ma come fai a organizzare tutto tu non è un po' troppo no non organizzo tutto io anche perché sarebbe illegale farlo nel senso ti appoggi a un'agenzia a seconda della destinazione c'è un tour operator specialista in quella destinazione ho un network di x partner che mi organizzano viaggi su un certo tipo di destinazioni o area geografica no per esempio sud america ho un'agenzia che mi fa tutto sud america l'islanda ho un tour operator in islanda con cui facciamo ora i posti ormai li conosco ho viaggiato tantissimo per cui io sono quello che decide gli itinerari decide dove andare ma tutto ciò che è la produzione dei servizi quindi i voli gli alberghi le guide i transferi ci pensano loro io poi mi occupo solo della comunicazione di eventualmente parlare con chi vuole iscriversi per se c'è delle domande quelle storie là ma ultimamente neanche quello nel senso che spesso le risolvono cioè parlano direttamente col tour operator non ho una mia agenzia no avete intervistato e mi hai detto si volano loro sono su un universo completamente diverso sia facciamo cose simili ma in realtà siamo proprio su due non siamo realmente competitor primo perché loro fanno viaggi molto numerosi in termini di partecipanti hanno costi molto bassi hanno un certo tipo di impostazione di servizio che non è lontanamente quello che faccio io per fare un esempio di quello dell'Islanda no di sono tratto in Islanda facciamo tutti quanti tutti quanti sia io che loro facciamo viaggi in Islanda loro se non sbaglio fanno viaggi in Islanda in minivan self drive con forse 15 partecipanti non so bene nel mio caso siamo in fuoristrade defender facciamo cose durano 8 giorni anziché durare poco durare forse anche loro non lo so comunque altri fanno viaggi di 5 giorni per dire in Islanda quindi anche lì contieni la parte quindi essenzialmente sì i miei viaggi costano parecchio di più però è un parecchio di più che vale a mio modo di vedere perché ci sono una serie di valori aggiunti io poi intendiamoci ritengo che ci sia un mercato per qualunque cosa semplicemente a me piace farli così perché se io avessi un viaggio di 18 persone non riuscirei a dare a tutti ma l'idea di fare queste cose ti è venuta guardando io sono stato uno dei primi infatti perché sono stato un pioniere in assoluto nel senso che era il 2014 quando io faccio il mio primo viaggio fotografico avevo visto uno che faceva delle cose del genere e avevo visto che in America c'erano altri che facevano cose simili costavano un sacco di soldi ma forse potrebbe essere e come funziona un viaggio fotografico il viaggio fotografico è un viaggio organizzato come tutti semplicemente chi accompagna e guida il viaggio sono io sono un fotografo professionista e di conseguenza tutte le tappe del viaggio hanno di per sé un precipuo interesse fotografico vale a dire che se c'è da da passare due ore aspettare il tramonto in un posto si sta a due ore aspettare il tramonto ora questa cosa nella maggior parte dei viaggi low cost non esiste neanche lontanamente anzi il più delle volte per quello che mi è stato raccontato da chi ha partecipato a certe esperienze dice ok si va si scende 5 minuti ta 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 poi via un po' mordi e fuggi dal punto di vista non è possibile poiché per fare foto ci va del tempo a seconda di quanto è paranoico poi il fotografo dovevi portarlo via con la con la catena certe volte ma soprattutto sai la fotografia è poi in realtà una scusa per vivere un'esperienza per come la vedo io per cui quando ti ricapita di vedere un tramonto per due ore davanti un posto è una forma anche di meditazione se vogliamo per tornare ai canoni della nostra conversazione di prima il punto è che in questa maniera qua io costruisco un format di viaggio dove sì chi fa fotografie ha la garanzia che lo metto nelle migliori condizioni per fare delle belle foto e gli do anche una mano se dovesse averne bisogno ma chi non ha interesse a fare foto che sono tanti in realtà i miei viaggi vengono gente con il telefonino ne frega niente di fare le foto sa che vive un'esperienza unica ecco e sono tutte persone che ti seguono dal canale ovviamente che ti trovano la stragrande maggioranza sì ovviamente tutti ho persone che comunque hanno sentito parlare di me da chi è e poi finiscono per seguirmi poi logicamente insomma ci si affeziona si creano dei rapporti meravigliosi la cosa più bella di questi viaggi non è mai il viaggio in sé quanto la relazione umana che si crea con i ragazzi che ho avuto il privilegio e l'onore non hai paura di avere un caso umano persone strane c'è qualcuno che fa selezione successo ovviamente non c'è l'agenzia non ti fa un po' di selezione no perché te lo dico allora la selezione avviene in maniera spontanea proprio per quello che hai detto tu prima cioè chi decide di viaggiare con me perché mediamente riconosce in me un qualcosa con cui lui è d'accordo c'è una assonanza di valori esattamente e siccome tutta questa dinamica si ripete poi finiscono per trovarsi persone che vanno meravigliosamente d'accordo non sempre è così ovviamente ogni tanto capita qualche personaggio un po' estroverso per usare un eufemismo e però alla fine in realtà gestisce anche quella fa parte del gioco ora negli ultimi due anni io non ho potuto fare nulla di tutto ciò poiché Mr.Covid decise di annullare tutta la possibilità di viaggi di gruppo perché poi c'era di mezzo tamponi eccetera casi incredibili quindi hai subito una discreta mazzata anche finanziaria enorme un'enorme mazzata fortunatamente tamponata egregiamente però tamponata in tutti i sensi sì in tutti i sensi proprio molecolare esatto tamponata egregiamente ma nel momento in cui è uscita fuori il lockdown del 9 marzo 2020 e quindi quello che avrebbe comportato tornando all'altra domanda che mi hai fatto sul tuo stream of revenues circa il 70% delle mie revenues annuali era completamente disintegrato in in un decreto legge in un dpcm a tempo indeterminato ovviamente senza ricevere ristori di nessun tipo perché non rientravi in nessuna delle classi neanche lontanamente quindi allora a quel punto di nuovo come ti approccia il futuro ti approccia il futuro tu ti approcci quanto vuoi ma poi intanto il terreno ti cambia sotto quindi si naviga a vista molto spesso chiaro che io ho delle idee dei progetti delle speranze magari anche a medio termine lungo termine mi piacerebbe fare certe cose ma specialmente negli ultimi due anni ho navigato molto a vista cosa posso fare nel prossimo mese e mezzo si fa eccetera eccetera poi arriva uno sponsor che mi chiede di fargli due video allora ok gli farò un video su questo un video su quell'altro e nel frattempo in realtà continuo a fare ciò che ho sempre fatto cioè essere me stesso viaggiare e seguire ciò che mi dove sento quella passione dentro che delle volte può essere anche diverso da ciò che ho fatto prima vuoi che sia quella storia bene non è il caso della recensione perché quello fu un po' telefonato ma per esempio i video che sto facendo ultimamente per raccontare la la tragicità sostanzialmente dei ghiacci no no dico della situazione tra Russia e Ucraina che essenzialmente sono video di geopolitica video di relazioni internazionali analitici giornalistici o analitici secondo di come lo vuoi vedere sono cose che mi appassionano realmente poiché conosco l'universo in cui accadono e dove sento di avere qualcosa da raccontare ma tecnicamente non hanno nulla a che fare con ciò che ho fatto prima quanto soffri quando vedi la fascineria spesso con cui viene approcciata la guerra sui media nazionali nostri perché adesso come prima eravamo tutti virologi adesso sono tutti russofili no russofobi 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 ce ne sono pochi comprensibilmente in realtà cioè quante cagate si sentono troppe ma anche nel tempo di pandemia non dimentichiamoci io sono sempre un medico non tocchiamo su questo argomento però insomma se ne sono state dette di grosse la comunicazione in tempo di pandemia è stata la cosa più disastrosa che io abbia mai visto in tutta la mia vita e ha comportato un disastro sociale che poi finiremo per pagare perché essenzialmente la comunicazione che è stata fatta ha finito per creare una grossa fetta di popolazione molto più grossa di quella che era prima che non si fiderà più dei medici questo è stato un disastro dal punto di vista della comunicazione non entro in merito il discorso medico perché non è neanche la mia specialità e sì io ho studiato tante cose ma vabbè e in realtà sta succedendo la stessa cosa con la questione della guerra ma mi sembra di vedere che perlomeno dopo questo primo mese c'è un leggerissimo cambio di tendenza che dopo le prime due settimane di follia completa perché non c'è altro modo per descrivere quello che è andato in onda sulle nostre televisioni sulla questione della guerra sta in qualche modo emergendo un partito del buonsenso nel senso che ha la capacità di comprendere cosa sta realmente accadendo più rappresentato di quello che mi immaginavo persino dai conduttori di talk show che ai tempi della pandemia sono stati tra i primi responsabili del disastro con la D maiuscola che è stato fatto nella mente di noi italiani quindi secondo te nelle prime due settimane di guerra ha prevalso l'emotività l'emotività quindi informazioni troppo di parte troppo dalla parte ucraina no informazioni se a parte chiaramente di parte ma il fatto di essere di parte è comprensibile poiché noi siamo una parte in questo conflitto siamo da una parte siamo schierati da una parte e insomma sarebbe strano se questa parte che noi prendiamo non emergesse in maniera prioritaria se vogliamo nella comunicazione il punto è la modalità faccio ho capito cosa riferisco la chiusura dei corsi di russo vedrai la licenziamento dei direttori d'orchestra sì questa è proprio una forma di isteria cioè il nostro ministro degli esteri che in televisione dice Putin è un animale ma lo capisco che lo puoi pensare ma questa lo fanno nella curva sud del san paolo non fa un ministro degli esteri ma anche lui ci vendeva le bibite lì è un riferimento a fatti persone realmente esistenti in effetti mi ha colpito molto anche a me questo senza andare senza sparare sull'ambulanza con il nostro ministro degli esteri ma Biden esatto se tu vuoi risolvere un problema non puoi usare la dialettica di maccio capatonda in italiano medio per questa roba qua è stata una cosa che e poi intendiamoci qualunque persona qualunque studioso qualunque analista che si permettesse di sottolineare le innegabili responsabilità politiche del nostro universo europeo barra americano in ciò che si è creato dal 2014 in poi veniva tacciato di essere un servo del Cremlino e io sono tra questi poiché nel senso nel momento in cui io nei miei video raccontavo esattamente queste cose a ragion veduta intendiamoci non è che sono parole che vengono dei migliori analisti dei migliori studiosi di gente che in queste questioni c'è dentro fino al collo non gente che fino a ieri faceva altro cioè tu parli dell'oppressione di alcune parti delle etnie delle due repubbliche no intendo dire il fatto che un'analisi obiettiva e distaccata non era assolutamente possibile all'inizio poiché essenzialmente il bisogno viscerale che il nostro sistema di formazione aveva era che si 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 vuotasse rabbia comprensibile esatto cioè secondo me io in parte la comprendo assolutamente ma non dico che non sia normale non ho dormito per quattro giorni a me lo dici se no immagini io mi ricordo mi è venuta anche un'infiammazione agli occhi perché continuamente passavo le giornate le notti a vedere i video perché non ci credevo i miei occhi erano increduli ma non è possibile poi abbiamo qui Mario che ci ha raccontato tanto delle Ucraine vuoi perché è attaccata qua vuoi perché è impossibile stiamo parlando di una superpotenza che che da un minuto con l'altro inizia a sparare missili sulle case di un'altra nazione è una cosa è terribile è più del covid cioè il covid è no il covid era un giochino esatto cioè questa è una cosa di dire no ma non ci posso credere che sta accadendo e probabilmente lì sono quelle cose della storia dove lo dicevamo prima prima che inizia poi che si finisce poi sempre di parlare di questo ultimamente il leitmotiv anche nei miei confronti poiché io vivendo in Russia conoscendo da vicino quell'universo e anche conoscendo da vicino la relazione che ha verso il mondo ucraino inevitabilmente c'è il giorno che mi sono svegliato con la notizia della guerra mi hai crollato il mondo addosso mi hai crollato il mondo addosso umanamente anche tu non te l'aspettavi quindi no assolutamente a maggior ragione studiando tutto quello che è c'erano pochi che dicevano ragazzi io sapevo che era possibile quello sì ci sono i miei video che lo testimoniano nel senso allora dico questa cosa non ha alcun senso io ho raccontato le ragioni del perché si è sviluppata la crisi da dicembre da prima in realtà anche dalla storia della Crimea eccetera l'ho raccontato molto nel mio video poiché in Russia se ne parla tanto e poiché ho avuto modo di studiarlo da fonti neutrali ecco perché è la cosa più importante ne ho parlato nel parlare dicevo ragazzi questa cosa molto difficilmente accadrà perché non ha alcun senso che accada no ma il fatto che non abbia alcun senso non è in alcun modo una garanzia perché non accada perché la maggior le peggiori disgrazie della storia dell'umanità vedersi prima guerra mondiale vedersi seconda guerra mondiale non le voleva nessuno ma sono successe perché sono successe per storico Alessandro Barberge per scommesse sbagliate per scommesse io azzardo stai a vedere che ora che cosa ha azzardato Putin in questo momento con ogni probabilità lui ha azzardato io in tre giorni la risolvo e mo siamo da un mese e mezzo e la situazione è in continua evoluzione non si sa esattamente come finirà ma l'unica cosa che si può dire con assoluta certezza come stavamo dicendo prima che con questo con il 24 febbraio 2022 è iniziato un altro secolo è finito il mondo per come lo conoscevo ma non come lo dicevamo prima con la pandemia con la pandemia il mondo era entrato in pausa è cambiato si è stravolto tante cose sono cambiate ma nella sostanza non è cambiato sostanzialmente nulla nel lungo periodo poiché a un certo punto ci dimenticheremo di tamponi vaccini green pass eccetera fisiologicamente ci sarà sempre probabilmente l'entità nosocomiale covid-19 però finirà per non costituisce un cambiamento totale quello che stiamo vivendo adesso sì sì poiché è stato passato è stato passato il punto di non ritorno io sono anche contento che non si ritorni al mondo di prima sono sincero ogni tanto ci penso dipende dai punti di vista allora io ho la mia opinione la mia opinione è che si è flirtato per troppo tempo con un regime spietato e che ha dato facilmente adito alle peggiori idee ferrate crimini e per motivi di business sia noi italiani sia noi tedeschi sia noi francesi tutti gli inglesi che hanno consegnato il centro di londra agli oligarchi russi hanno sempre sperato che comunque non sarebbe mai accaduto una cosa del genere poi è accaduta e adesso abbiamo fatto una mega retromarcia ma perché è accaduta? questo non lo sa nessuno non lo sa nessuno perché è accaduto nessuno sa in questo momento che cos'è che ha fatto prendere la decisione finale non lo sa nessuno ma le cause che hanno portato all'attenzione sono chiarissime ma le cause dell'attenzione sicuramente c'è una roba vecchia che risale almeno a 25-30 anni fa no no ma certo certo il punto è che c'è c'è un discorso geografico da cui non possiamo sottrarci cioè tu dici abbiamo flirtato con un regime ti riferisci suppongo alla Russia ovviamente sì abbiamo fatto in modo che si inserisse pesantemente all'interno della nostra vita io ti parlo io credo sono sostenitore che la Brexit è stata scelta da Putin perché Putin ha falsificato l'elettorato inglese io su questo non credo foraggiando i sovranisti di tutta Europa perché per indebolire l'Europa da dentro perché l'Europa è il suo grande nemico il fatto che lui in realtà sai che ni nel senso anche lì bisognerà non l'Europa c'è Harari uno scrittore che non amiamo tanto che è omosessuale che ha dedicato il suo libro a suo marito lui è sposato un israeliano sposato in Russia e sono in Russia non gli è stato permesso di scrivere dedicato al mio marito no è dedicato al mio partner perché in Russia c'è omofobia certo ma c'è nella società questa cosa però Putin non è che è contro l'Europa in sé ma è contro una visione progressista dell'Europa contro la disgregazione dei valori della famiglia tradizionale per quello poi ha trovato l'infa però mi è piaciuto molto la maniera in cui poi i sovranisti europei siano stati totalmente sfanculati da un giorno all'altro isolati questa è una cosa incredibile questa è una delle grandi notizie di quello che sta accadendo per quello che dico come si chiama quel giornalista che adesso è stato epurato quello biondo che lavora quello che è stato licenziato Orsini e Orsini anche lui diceva è incredibile come ragione non gli imperi lui non è un giornalista lui è un professore professore universitario gli imperi ragionano così tanto quanto gli Stati Uniti anche da noi hanno una serie di centri di potere che vengono sfruttati sono questi discorsi che non si potevano fare all'inizio cioè spiegare come ragiona un impero e accettare che noi siamo parte di un impero e in realtà siamo la dependanza noi siamo la dependanza per cui non abbiamo la mentalità imperiale ma gli americani ce l'hanno e come ce l'hanno loro ce l'hanno i russi noi in mezzo non siamo in grado noi siamo semplicemente da una parte tutto qua e perché ci sono mille motivi storici anche di valori quello che vogliamo peraltro poi il tema dello scontro tra civiltà che ruota intorno a questa storia è pesantissimo ed è una cosa che a me personalmente fa molto soffrire poiché conoscendo quella parte di mondo avendone apprezzato la bellezza anche l'unicità l'idea che ci sia che in questo momento sia calata una serrante di incommunicabilità che Dio solo sa se e quando finirà credimi mi fa male mi fa molto male personalmente mi fa male vedere le immagini che vedo arrivare dall'Ucraina mi fa malissimo perché ho degli amici là ok c'è il giorno in cui è arrivata la notizia io ero insieme a dei ragazzi ucraini che avevano i genitori a Kiev e i primi giorni ancora no ma dopo 3-4 giorni già le bombe cadevano sulla capitale quindi e inevitabilmente c'è da parte di me una profondissima sofferenza di questa storia qua per regioni più dirette cioè quello che stanno patendo quelle persone inclusi anche disgraziati soldati russi che vengono mandati giù perché poi assolutamente di fronte alla morte siamo tutti uguali io credo personalmente c'è sofferenza tipo culturale poiché vedo due popoli che prima avevano una interdipendenza culturale e sociale eccetera quasi sovrapposta che già otto anni fa si sono semi spaccati che adesso non si troveranno mai più sono famiglie che vengono per sempre segate da questa storia qua e poi c'è l'aspetto banalmente pratico nel senso che con mia moglie adesso bisognerà capire in che maniera organizzare nella pratica la nostra vita sulla base di quella che sarà la condizione del paese in cui viviamo leggi le sanzioni leggi le carte di credito sono bloccate io carte di credito russa non ci pago neanche un panino in questo momento al di fuori della russia e viceversa con quella italiana magari non ci pago più un panino neanche in russia per cui dico il mondo sta cambiando e cambierà per sempre ma secondo te tu che ci vivi da quanti anni che abiti a mosca e per quanto riguarda il discorso che facevi tu prima il discorso del commento una conversazione al flirtare con un regime eccetera si può dire quello che si vuole sul putinismo sul regime di putin in questi ultimi vent'anni che ha inevitabilmente una marea di lati oscuri però al di là di putin c'è un paese la russia un sistema che è l'erede in qualche modo dell'unione sovietica con cui noi per nostra struttura per nostra costituzione dobbiamo avere delle relazioni non possiamo pretendere che la russia per noi sia come un kenia o come un'argentina non possiamo pretendere che la russia sia per noi ciò che è per gli stati uniti un paese che da un giorno all'altro puoi tagliare dal tuo orizzonte e non ti cambia nulla e non è solo per la dipendenza dal gas per le questioni è proprio per la storia essenzialmente dei nostri popoli io purtroppo quello che ho visto nelle prime due settimane è stata un po' una riedizione in versione russofoba ho deciso che si è visto dopo l'11 settembre se ti ricordi verso i musulmani io mi ricordo io facevo il liceo al tempo i bambini mi compagni guardavi male si guardava male si vedevi una col velo per strada e dice oh questa è un attimo stare lontano che boom famo arbotto questo tipo di atteggiamento è successo anche qua in Italia molti russi sono stati vittime di bullismo essenzialmente per il solo fatto di essere russi io stesso ho ricevuto dei messaggi di insulti perché mia moglie è russa ok insulti per aver tradito l'occidente essendo andato a vivere là sei anni fa non capisce ora tutte queste storie qui laddove con l'universo musulmano che è un universo proprio storicamente culturalmente distante da noi è molto difficile che possano essere sostenibili nel lungo su un universo che in realtà è nostro parente stretto un universo russo barra cristiano ortodosso eccetera e così come l'Italia ha avuto rapporti stretti con l'unione sovietica nel momento in cui era il nemico numero uno del mondo è inevitabile che ci siano stati tesi dei rapporti anche piuttosto stretti nel momento in cui la russia è stata ed è ancora ad oggi governata da putin io non so cosa accadrà dopo ecco infatti voglio chiederti secondo te che ci abiti quante probabilità ci sono che putin prima o poi cada in questo momento beh permesso che tutti prima o poi cadano no in un modo o nell'altro sic gloria a mundi sic gloria a mundi poiché è qualcosa di limitato esatto non è il limitato persino putin persino putin gli stati stessi sono comunque in questo momento zero in questo momento i russi sono con putin scomodo ma è così da fastidio ho visto che sono cresciuti anche perché sono cresciuti perché noi abbiamo fatto del nostro meglio per farli crescere ma anche perché hanno chiuso tutti le televisioni e i giornali quello non conta niente insomma quello te lo dico per davergico parlo con le persone cioè basta una vpn se uno vuole le cose le vede non c'è si chiudi i social eccetera la tv di stato dice una sola verità eccetera verissimo assolutamente si potrebbe discutere su quanto da noi sia simile con i giusti distinguo ma siamo è una parte scusami intendiamoci stiamo parlando di un paese che sta muovendo guerra a un altro per un interesse che il paese stesso ritiene vitale è quasi fisiologico che il paese non prevede in alcun modo nessun tipo di di dissenso a questa cosa poiché se da questa cosa lo stato decide che dipende dalla sua stessa esistenza perché poi è questo che pensa che pensa il regime russo in questo momento qua e quindi la comunicazione è monodirezionale come era monodirezionale ai tempi nostri quando noi eravamo in guerra per altre per altre questioni ma il punto non è questo il punto è che i russi le cose se volessero le potrebbero sapere il punto è che tendono ovviamente a deviare la loro informazione al punto molto biased se vogliamo cioè cercare le cose che gli diano ragione e inoltre il comportamento nostro occidentale non solo con le sanzioni ma anche con la comunicazione con le dichiarazioni con i gesti di ineguagliata ignoranza come quello di chiudere il corso Dostoievski eccetera no come se questo aiutasse in qualche modo a ridurre la guerra che è una barzelletta però loro le percepiscono come un e allora hai visto che ci hanno detto la verità in questi anni che loro ci odiano però in realtà gli Stati Uniti hanno fatto un ragionamento diverso io seguo tanti americani che a un certo punto hanno detto ma perché ci odiano tutti nel mondo perché quando parlano di America l'America è sempre vista come un impero che invade si sono fatti un'autocritica parlo di un'intelligenza parlo dei blogger parlo dei podcaster più importanti cioè si sono proprio fatti la domanda di dire ma perché quando andiamo in giro gli americani perché ad esempio in alcuni stati non possiamo andare perché siamo visti come nemici si sono fatti un'autocritica e gli Stati Uniti non è un caso che da Trump in poi hanno proprio scelto e l'abbiamo visto anche con Biden di rinunciare ad una politica almeno visibile di espansione imperialistica cioè ritrovando una sorta di isolazionismo hanno preso più lucidità esatto hanno preso più lucidità rispetto a quello che hanno fatto negli anni 2000 di andare in giro a fare esatto mi domando non può succedere la stessa cosa anche in Russia io mi dico ma perché ci odiano perché a noi italiani non ci odia nessuno non può succedere perché noi non abbiamo mai fatto non abbiamo mai invaso un altro paese cioè non abbiamo nel nostro DNA i cromosomi dell'imperia dell'essere superiore gli italiani stanno simpatici a tutti per tanti motivi i russi no i russi no a me stanno simpatici i russi però in generale mi domando cazzo ma si farà viaggiano i russi viaggiano tanto viaggiano tanto i russi i russi si sentono nella loro impostazione culturale si sentono non compresi e ma non è paranoia cioè sono paranoia c'è un connotato di paranoia in parte è vero io lo vedo tanto allora guarda io mi ricordo quando sono andato a ritirare il mio permesso di soggiorno sono andato a ritirare il mio permesso di soggiorno alla questura locale diciamo a Mosca a Mosca no questo mi guarda e fa ah sei italiano sì che cosa pensano di noi in Italia cioè ti dico lei mi doveva dare un timbro cosa pensano di noi in Italia ma sa ci sono tanti pregiudizi c'è una parte che stravede per la Russia ma in gran parte insomma sa la politica com'è no e questa ha fatto una faccia la gente dice sempre male di noi è così ma c'è questa specie di tristezza di fondi dell'assegnazione ma tu dirai porca misera fanno di tutto perché si parli male di loro è vero o no? il punto è che sono proprio una una cultura un po' perché è un'impostazione diversa tu che sei viaggiato nell'est Europa secondo me lo puoi confermare nel senso che vedere come quando tu viaggi in quei posti lì scopri cose che non ti aspetti dici cazzo per me erano un'altra cosa i russi per me erano diversi perché me li erano dipinti in un modo che in realtà non sono sono gentili sono buoni sono bravi stessa cosa degli ucraini cioè il primo giorno sono rimasto colpito dalla gentilezza dei camerieri dei ristoranti sorrisi e una cosa la dici te in un tuo video bella che mi risuona molto cioè sembriamo noi negli anni 50 cioè un popolo ancora con molto molto senso le relazioni tra Italia e Russia sono strettissime per tutta una serie di motivi peraltro l'abbiamo visto di recente cioè perché Putin si è dovuto andare a commentare il il murales di Dostoevsky che hanno fatto a Napoli non so se avete letto quella notizia a Napoli un artista ha fatto un murales un giga a Dostoevsky per per protestare rispetto insomma anche se poi quel corso lì è stato poi ripristinato è un ordine vero però la protesta era quella nel senso che senso ha odiare una cultura quando essenzialmente se ce la dobbiamo prendere con qualcuno ce la dobbiamo prendere con un con questa attuale Russia di oggi non con la Russia di sempre certo e e Putin non ha perso occasione è molto bello vedere questa dimostrazione di apertura mi fa mi dà speranza che poi sua comunicazione quello ok perché comunque le la vicinanza culturale anche emotiva che i russi sentono verso gli italiani è totale io l'ho vissuto tantissimo in questi anni in cui sono stato su ho viaggiato moltissimo quindi in realtà è vero cioè io sono alla dimostrazione che questi pregiudizi esistono perché quando ho fatto il mio primo viaggio a Torino a Pechino ok per me la Russia era una cosa c'evo delle idee che traspaiono traspaiono traspariscono traspariscono si vedono che si vedono sono passato due ore e mezza quindi sono stati che si vedono dai commenti spontanei che faccio in quel video lì no per esempio una cosa classica io ero lì nel 2015 erano i 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale grandi celebrazioni a me sembravano un po' esagerate francamente dico ma ragazzi qua cioè da noi da noi queste cose non si vedrebbero mai poi vabbè noi l'abbiamo persa la guerra loro l'hanno vinta magari forse anche per quello non lo so un po' con sufficienza delle cose però mentre c'è una battuta che poi i miei follower mi rinfacciano in maniera molto comica che mentre mentre li ascolto vedevo tutte queste cose faccio comunque sono convincenti sono presi bene a me viene quasi voglia di essere russo dopo stasera poi finì per sposare una donna russa eccetera poi in realtà conoscendo realmente poi ho investigato perché sono così infognati con sta cosa le ho parlato mi hanno raccontato eccetera loro crescono hanno una visione del mondo di se stessi anche nel mondo che il più delle volte si traduce nel senso ce l'hanno tutti con noi noi vorremmo solo stare qui tranquilli a non far nulla e l'invasione dell'Ucraina è figlia di questa dialettica in realtà non dimentichiamoci che il motivo essenziale è che l'Ucraina non è stata in grado di dare alla Russia delle garanzie di neutralità di non adesione alla NATO alleanze militari che li avrebbe portato a avere basi militari americane sul territorio quindi una minaccia per la Russia nell'ipotesi che questo accade io nel dubbio ti spacco la testa questo è quello che è accaduto ok non dico che sia giusto non dico che dico semplicemente che la ragione l'estrema razio che ha portato alla nascita della crisi prima e della guerra poi è esattamente questo sentimento che tutti i russi condividono e nel momento in cui poi prende forma nel momento nel contesto di quella che oggi è una guerra terribile la più tremenda nel 45 e oggi senza ombra di dubbio è una roba che poi loro dicono ok qua ci dobbiamo unire dobbiamo fare quello che i russi sanno fare meglio di ogni altra cosa e che lo sanno fare e che sanno fare anche molto bene gli ucraini cioè fare quadrato pazzesco fare gruppo nel senso del tipo ok c'è una minaccia c'è un qualcosa di grave prima la patria poi tutto il resto questa è una cosa tipica dei popoli slavi in realtà no di origine di ceppo slavo se vogliamo che sono diverse hanno le loro identità ma quel nucleo fondamentale esiste infatti una delle cose più tragicamente affascinanti che mi trovo ad osservare in questa guerra qua è che i russi si trovano a fare una guerra con gente che della propria stessa pasta infatti non la chiamano neanche guerra ma operazione speciale operazione ambientale speciale e uno dei motivi è questo eh sì infatti per quello te lo dico uno dei motivi è questo perché non puoi dire che fai la guerra all'Ucraina perché è come dire noi che facciamo la guerra al Tirolo che cazzo ne so o alla Sicilia diciamo che dal punto di vista dal punto di vista russo veicolato dalla retorica di Putin di questo famoso discorso del 23 febbraio no quello discorso di un'ora e mezza dove essenzialmente spara la storia dell'Ucraina vista con i suoi occhi dice essenzialmente in sintesi no l'Ucraina non è una cosa diversa da noi è parte di noi tu non è che fai la guerra a te stesso e però cazzo questa roba qui lui c'è stato in Ucraina cioè chi c'è stato in Ucraina non ha senso lo sa che quelli sono super convinti di essere Ucraina è un'altra storia come è possibile che questo sia rimasto chiuso dentro sta torre d'avorio non abbia capito che stava facendo ma cazzata cioè come puoi pretendere lì entriamo nelle domande che ancora non hanno risposta per quella che è la mia comprensione capire è impressionante fa ancora più paura cioè l'idea che comunque una persona che dovrebbe essere la più informata del mondo non ci aveva capito proprio un cazzo anche lì quando purtroppo parte dal presupposto che noi sappiamo che cosa avessi in testa come fa a rimanere ancora così popolare dopo un mese di fallimenti perché quando vedi che tu pensi e dici guardate che loro vogliono stare con noi ma invece loro non vogliono stare con te gli ucraini preferiscono morire che essere russi sotto un'influenza russa perché si sta meglio da questa parte perché nessuno nessuno dice che si vive molto meglio nell'occidente che nella Russia di Putin se no gli ucraini starebbero non direbbero ma certo vi stavamo aspettando da decenni questo passaggio non viene in realtà proprio se tu osservi non sono questi i presupposti con cui parti da questa guerra non è partito il presupposto riportiamo gli ucraini a casa nostra che non vedono l'ora di tornare a casa nostra se non fosse per la parte del Donbass o le popolazioni filorusse che comunque già negli ultimi otto anni avevano diritto automatico a passaporto russo ok mi ricordo mi è impressionato quando ero andato all'ufficio immigrazione eccetera c'era proprio il cartello diceva i seguenti soggetti hanno diritto a passaporto russo quindi cittadini stranieri sposati con figli in possesso di permesso temporaneo cittadini stranieri sposati con cittadini in possesso di permesso permanente residenti nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk c'era già quindi tre categorie di gente che aveva diritto ad avere il passaporto russo quindi tu dici se uno voleva aveva avuto tutto il tempo non è essenzialmente quello il motivo per cui partire la retorica con cui si è partita è la famosa denazificazione nel senso lui racconta si racconta alla propria gente al proprio popolo in Ucraina ci sono i nazisti i nazisti ce l'hanno con noi fanno in modo che noi andiamo e tiriamo via i nazisti questo è il senso della cosa il fatto che non ci riescono in tre settimane ma ci mettono un mese un anno dieci anni al momento non è rilevante ma quando un russo se gli facessero vedere le immagini che ho visto io dei ragazzini di Odessa che facevano altri lavori che si mettono a riempire i sacchi di sabbia e dicono piuttosto io muoio che diventare russo ma in Russia non si fanno la domanda che qualcosa è andato storto ma perché stanno mettendo i sacchi per non farci arrivare non dovevamo mica andare a denazificarli ma loro stanno bene con il nazismo quello che dico vuol dire che non gliele fanno vedere le cose perché se li facessero vedere i ragazzini le donne gli uomini ovviamente gli fanno vedere altre cose gli fanno vedere dei video che peraltro non è che sono fake altrettanto fanno vedere quegli episodi selezionati dove in realtà ci sono cittadini ucraini che ringraziano i soldati russi perché sono venuti a liberarli per dirlo ci sono anche di questi video qua che girano ovviamente è un'informazione molto veicolata ed è un'informazione molto biased anche dal punto di vista dell'utente personale che con una VPN può andare a vedere che cosa vuole che cosa pensa questa è successa la stessa cosa col covid se ci pensi ah voglia si si cioè se io supponiamo per esempio io sono un accanito antivaccinista no secondo te che contenuti andrò a cercare ma non solo su internet per come funzionano gli algoritmi te ne proporranno a tiglioni di più se tu anche umanamente cioè sei speri che il tuo paese abbia ragione che ritieni che sia vero questa cosa qua vai a vedere quelli lì e quando vedi gli altri perché li vedono non è che non li vedono quegli altri video che mi dici tu però automaticamente tendono a pensare è una montatura eccetera caso l'abbiamo visto ieri proprio 24 ore fa la liberazione di buca con civili morti per terra le scene che mi chiamano una coltellata ti giuro però l'abbiamo visto proprio ieri la manifestazione maledetti questo è un genocidio sono immagini fake costruite d'arte ora tu come fai a capire chi ha ragione se non sei lì io ce l'avrei un'idea se il 99,9% del mondo pensa a una cosa e solo tu pensi a una cosa io una domanda me la farei ma purtroppo non è il 99,9% noi abbiamo questa percezione cioè il 99,9% del tuo mondo eh ma no di tutto il mondo ragazzi perché tranne la Cina come no scusa non c'è un paese che non c'è un paese ci sono 35 paesi che alla riunione dell'ONU si sono astenuti ma c'è un monumento nel mondo che ha sopra la bandiera russa sono tutti ucraini tutti dall'Australia al Giappone perché ci sono nei paesi occidentali certo per loro vale poco quello nei paesi occidentali perché viviamo abbiamo una visione comune delle cose io ti ripeto i paesi occidentali sono i paesi dove la gente vuole vivere comunque cioè non è che gli occidentali gli americani la gente vuole vivere nessuno immigra tranne te per sbaglio però nessuno immigra in Russia e sono i russi che vogliono venire a vivere da noi perché gli oligarchi non vivono a Mosca vivono a Londra vivono a Como dove abito io è pieno di oligarchi c'erano i soldi ma non stanno a vivere a Minsk questa cosa non è vera se tu parlassi con i russi il legame che hanno con la loro terra è indissorubile peraltro ci sono anche degli episodi storici interessanti tipo te lo cito così a scopo puramente culturale non che sia rappresentativo in senso assoluto però ci fu questo episodio quando lo conosci lo scrittore Mikhail Bulgakov quello che ha scritto il maestro e Margherita lui era essenzialmente anticomunista era molto contrario al regime di Stalin di fatto il suo libro più famoso maestro e Margherita una percolazione di Stalin dell'Unione Sovietica feroce che fu censurato riscoperto poi dopo anni uno dei romanzi più belli che siano mai stati scritti in modo di vedere essenzialmente lui era boicottato da paura dal suo regime dal regime di Stalin non lavorava non faceva cioè faceva una vita infame e voleva andarsene via non voleva andarsene via dalla Russia un giorno capita si narra perlomeno che aveva avuto una conversazione telefonica con Stalin perché Stalin in realtà era un suo fan si pare che fosse andato tantissime volte a vedere una sua rappresentazione teatrale però dal momento che le sue produzioni erano un po' contrarie alla visione l'hanno lasciato vivo sostanzialmente ma non era molto ostacolato nonostante parlavano ebbero questa conversazione dove lui disse questa cosa sono profondamente convinto che un russo non possa vivere lontano dalla Russia Stalin disse a Bulgakov no Bulgakov ah ok questa cosa che sembra una follia no ma nel momento è casa tua nel momento in cui tu parli con quelle persone io l'ho vista tantissimo ma certo l'ho vista ma forte molto più forte che da noi cioè un italiano vive bene un po' ovunque poi gli manca l'Italia certo perché a me manca e sono contento di essere qua in questo momento ma in qualche modo non è la stessa cosa non è proprio la stessa cosa cioè l'universo culturale da cui si parte è proprio diverso e la cosa che a me dispiace molto è che non ci sia mai stato in questi anni la voglia di conoscerlo con l'universo di comprenderlo e di riflesso trovarci il modo di dialogarci no bellissimo questo perché in effetti io lo dico sempre la stessa cosa vale con i musulmani io siccome sono appassionato di cinema ho sempre tanto ammirato il cinema iraniano il cinema del nord africa e quando tu vedi il cinema di quei paesi capisci entri in quella cultura non puoi avere questo atteggiamento razzista certo perché capisci che hanno gli stessi problemi che abbiamo noi che hanno un carattere aperto che hanno le nostre emozioni e che magari danno importanza a cose che tu dici ma esatto cioè no anzi dici wow che figata che bello la stessa cosa avviene con gli youtuber tipo bold and bankrupt famoso youtuber che mi ha fatto conoscere se non fosse stato per lui io non sarei neanche andato in Ucraina cioè parliamoci chiaramente quando tu segui uno youtuber come quello lì che ti fa vedere la gente vera senza i filtri dei media senza la retorica senza la propaganda e vedi le persone ed è incredibile perché vedi come sono fatti le popolazioni di quei paesi cioè sono hanno quella genuinità quella spontaneità quel senso di normale curiosità per lo straniero di apertura il contrario di quello che è luogo comune e sono persone che hanno un senso della famiglia bello che mi rendo conto anche che possa essere a volte un problema quello di interfacciarsi con un'Europa dove invece la famiglia al netto delle tematiche gender è proprio abbiamo visto è un valore che sta diventando come negli Stati Uniti dove tu tuo papà quando vai alla otto mamma quando vai al college poi non lo vedi più tutta la vita lo vedi solo al giorno del ringraziamento per loro no cioè loro ho conosciuto sta ragazza russa mi ha fatto vedere la foto di sua nonna al primo appuntamento questa è la mia nonna ma sai che è la mia nonna la mia nonna la mia nonna cioè la cosa meno sensuale la boshka è la cosa più sacra della Russia la mia nonna guarda che bella che era io l'ho guardato ti sta facendo un favore per fornirti un pensiero perché poi tu dopo sia più performante io ho detto cazzo è tutta bella guarda che bella che era insomma non l'ho capita non è rimediata è arrivata è un numerismo un po' così un po' come città leasing quei film demenziali americani che compare il personaggio anziano mentre mi sa che devi andare a prendere il treno tu che ore sono? 6 meno 10 siamo quasi vicino alle 3 ore di viaggio io lo sapevo che andava a finire così lo sapevo che andava a finire così è molto bello conversare con te ti ringrazio molto di questo invito non dirlo così sembra che lo stai facendo per finta no no è vero grazie penso che tu ne sia accorto no 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 è stato un onore averti qua e sento che ci rivedremo non so perché sicuro sicuramente le energie sono quelle giuste ti faccio un sacco di complimenti cioè per me sei proprio un motivo di di vedere concretizzate tutte le quelle cose che ho scritto nei libri e che la vocazione è un testimonio al perfetto per la vocazione esatto cioè nel senso ma di vocazione ma anche tutto la fede la vocazione l'entusiasmo la ecco anche la maniera con cui che utilizzi per parlare di un fatto così divisivo come la guerra è anche questo un insegnamento perché hai sicuramente le tue idee ma come vedi non sono appuntite sono idee che porti doni metti qua sul tavolo ma non lotti in questo caso specifico non è che si tratta di idee si tratta di cose che ho visto che sono cioè non è che da un osservatorio privilegiato ovviamente si poi intendiamoci ho sempre detto fin dal day one fin da tutti i video cioè non dice alcuna giustificazione a quello che sta accadendo una roba terribile micidiale però a me piace sempre capire il perché delle cose e in realtà non è poi diverso da quello che abbiamo detto nelle prime due ore di chiacchierata essenzialmente a me piace capire che cos'è che porta gli uomini a fare certe scelte certe cose vale anche per per le nazioni sostanzialmente maggior ragione se stiamo parlando di un paese dove vivo dove ho avuto alcuni dei miei ricordi più belli e dove essenzialmente ho avuto la fortuna di conoscere un qualcosa che quasi nessuno di qua conosce e la cui mancata conoscenza determina quell'incomunicabilità che in ultima analisi è poi la causa delle peggiori disgrazie del mondo perché secondo questa guerra si poteva evitare poteva essere fatto tantissimo per evitarla da almeno 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 16 anni almeno come minimo se vogliamo tirare perché almeno sì più o meno così quello che io ho visto è che in realtà da un po' tutte e due le parti è stato fatto di tutto perché partisse penso la stessa cosa per quanto nessuno la volesse alla fine penso la stessa cosa chi mi conosce sa che non sono un complottista anzi però guarda caso da quando è scoppiata questa guerra nei budget delle nazioni si parla di innalzare la spesa militare cosa che stava andando ad affossarsi in tutti i paesi europei è quello che quando ti dico che è finito un secolo è finito una notizia che alla fine chi ha la testa sul collo su questo argomento la sta dicendo ad ogni occasione sospinta penso analisti geopolitici eccetera ragazzi la Germania si sta riarmando la Germania ha messo 100 miliardi sul piatto per il proprio esercito spenderà il 2% di uno dei più grandi del mondo per la cosa questo vuol dire che la Germania praticamente spenderà soldi per l'esercito quanto la Russia sarà la terza potenza mondiale terzo stato mondiale per spesa militare questa roba tra dieci anni ci troviamo a ricommentarla perché il mondo andrà avanti succederà qualcos'altro quando ci sarà un'altra crisi dalle nostre parti ipotizzo è giusto per dare un contesto pratico però tra 25 anni non lo so 20 anni 15-30 non lo so la Germania invece di mandare i caschi ad Ucraina come fece prima a inizio febbraio non so se vi ricordate è che Zelensky dice oh ma sei sce i caschi mi mandi no poi però gli hanno mandato anche i missili e dopo anche gli Stinger si si poi dopo quando quando si è incazzato è cambiato tutto è lì la svolta però quello che voglio dire che anziché prima della guerra di mandargli i caschi nella prossima crisi la Germania può diventare la testa militare d'Europa si parte già parlando di creare un esercito europeo eccetera e si è cambiato tutto è roba non è cosa insignificante però io guarda io sono un viaggiatore esatto viaggiatore il viaggio è il modo migliore per battere qualsiasi guerra perché il viaggio fatto non è la maniera giusta però non che viaggi vai e ti richiudi in un villaggio come viaggi tu cioè come hai fatto i tuoi viaggi perché incontri le persone per quello anche quando è venuto qua anche Balini e gli ho detto ma non ci sono mai nei vostri video che parlate con le altre persone incontrate dialogate poi adesso ultimamente lo sta facendo di più il viaggio è anche quello è un viaggio tra esseri umani per andare a scoprire è soprattutto quello è soprattutto quello non è quello farsi un selfie cioè non può essere la collezione di selfie cosa che non è che faceva Balini però Balini giustamente in generale cioè come spesso si viaggia è il modo migliore per scongiurare le guerre perché non c'è modo migliore per comprendere l'assurdità di quella cosa scongiurarle io temo che sarà dura no che non è viaggiando che lo si fa perché perché non tutti viaggiano molto manualmente ma sicuramente per capire perché nascono sì guarda basta che le persone che decidono le cose viaggino o che comunque un'elite all'interno dei vari paesi bastasse quello magari oppure che trovino il proprio maestro no vedi il punto si torna più che al maestro ovviamente sarebbe una cosa auspicabile ma si torna al discorso del di cosa conta realmente nella vita in qualche modo ora io non ho l'esperienza di uno che comanda uno stato di quali pressioni deve ricevere per cui è inutile che mi addentri in una specie di psicanalisi dei potenti della terra che sarebbe ridicola semplicemente per cosa viviamo è una domanda che tutti noi dovremmo farci no si ritorna in un modo o nell'altro al discorso della vocazione al discorso di su cosa vuoi investire no e quando una persona lo capisce per davvero cosa conta sul serio nella vita l'ordine di priorità cambia non ci può essere spazio per la guerra per la violenza non c'è proprio cioè non c'è proprio il tempo non so come dire e anche ma riesci che la mia personale convinzione così per darti un po' una chiosa finale un messaggio a chi ha avuto la pazienza ad ascoltare tutta sta chiacchierata ci sarà vediamo la rivoluzione di cui il mondo ha davvero bisogno è una rivoluzione spirituale individuale che ogni singolo essere umano inizia a capire che la propria vita ha un valore in senso assoluto e come capirlo lo abbiamo già sviscerato prima cioè come essere pienamente te stesso come essere come dio ti ha fatto come trovare tutta quanta la forza l'energia per coltivare quell'unica singola energia che unisce tutti gli esseri viventi sulla faccia della terra che è l'amore non l'amore oh esco con una sono innamorato oh mi piace fare sta cosa poi mi rompo no l'amore con la A maiuscola quell'energia travolgente in costante crescita incondizionata senza limiti che determina tutto ciò che abbia un senso nell'esistenza umana a livello individuale e poi se siamo cioè il mondo è fatto di individui no se succedono queste cose tremende nel mondo in grosso è più o meno lo stesso motivo per cui io quando non ero in grado di eccetera ma stesso trovavo delle relazioni non appaganti ma se noi continuiamo ad avere tutta sta feccia dentro tutto questo odio rancore che si manifesta sia nell'odio verso il novax l'anno scorso nell'odio verso il russo adesso o qualunque altra cosa nell'odio verso il tifoso della squadra avversaria quando guardi una partita di calcio quella matrice lì prende forma quello che hai nella tua testa diventa realtà se tu ti diventa realtà se tu visioni visualizzi ogni giorno la ricchezza la casa finirai per attirare quella cosa verso di te nel momento in cui la maggior parte delle persone statisticamente investe la propria vita in emozioni distruttive quali sono l'odio quali sono l'invidia il rancore la mancata voglia di comprendere l'altro la tendenza a preferire la notizia negativa la notizia positiva la tendenza a preferire lamentarsi che a essere grati per ciò per ciò che non si ha che a essere grati per ciò che si ha la tendenza a preferire l'odio all'amore in qualche modo che purtroppo è la natura della nostra società odierna quindi se investiamo in emozioni distruttive tu mi insegni meglio di me raccogli quello che investi raccogliamo distruzione delle volte distruzione sottile rapporti magari chiamiamola spirituale se vogliamo oggi ci tocca di vedere quella fisica che è la più dura da digerire ha una tutto ciò che è poi uno la riduce al locale è colpa di Putin è colpa di Zelensky è colpa dalla geopolitica quello che è sì ok quella roba lì anche ma essenzialmente la natura profonda di ciò che accade tutto ciò che è profondamente personale individuale ha in realtà un suo corrispettivo universale e di conseguenza forse se vogliamo vederla così la guerra tutte le atrocità che accadono nel mondo anche quelle che non finiscono sui nostri telegiornali vedersi Yemen dove c'è una guerra parallelo di cui non si parla essenzialmente che possa essere almeno uno stimolo una lezione a farci capire questa cosa il punto è che come diceva lui se non c'è nessuno che ti aiuti a vederla questa cosa e a spiegarti il nesso che c'è tra la porcheria che ci ciocca vedere fuori e quella che abbiamo dentro di noi è difficile liberarsene sì se c'è una guerra fuori è perché abbiamo una guerra dentro può esserci una guerra fuori se non ce l'hai dentro esatto no quindi si connettono magicamente primo tempo e secondo tempo di questa puntata del bazar Stefano figata grazie complimenti ancora per tutto grazie a te è una chicca che è andata molto al di là delle mie aspettative per cui ti devo sono sinceramente grato anche da parte mia ciao avete avuto 12 ore figata Stefano grazie e vabbè Stefano Tiozzo lo trovate da per tutto fatemi ringraziare i miei patreons visto che con la donazione di ieri siamo arrivati a un 1500 euro in totale lo dico non per vantarmi ma perché visto che chiedo i soldi e poi li devo donare c'è anche la screen recording per l'Ucraina ovviamente chi va sul mio patreon e si goda le mie donne nude sa che il 100% di quello che mi dava all'Ucraina quindi ieri ho fatto la terza donazione bravo complimenti notevole grazie Stefano contento allora di aver partecipato in qualche modo anche se può essere di aiuto grazie Stefano grazie a te ciao questo è il bazar atomico ciao a tutti ciao ciao atomico